Buonasera a tutti e bentornati su Italian Military Archives. Siamo alla nostra ventesima live, l'ultima del periodo estivo, anzi prima della pausa estiva, ma non di meno una live densa di contenuti come piacciono a noi. Con questa riprenderemo un po' il filo di una live fatta qualche mese fa sugli avvenimenti del 42, appunto Mediterraneo 42, e in quella di stasera porteremo avanti la storia, anche in occasione, insomma, degli ottantesi, i vari ottantesimi anniversari che ricorrono quest'anno, e vedremo un po' gli eventi politico-militari della prima metà abbondante del 1943, essenzialmente le campagne di Tunisia e di Sicilia. Con me stasera ci sono due ospiti che avete già visto su questi schermi, li porto a schermo, sono Giovanni Cecini e Andrea Sant'Angelo. Allora, benvenuti e bentornati. Ciao. Due storici che, insomma, vedrete stasera saranno, saremo fra tutti molti, molto complementari. Ho citato in apertura la live sul 42, quindi io partirei un attimo dalla conclusione del 42, quindi principalmente parlerei di El Alamein e soprattutto Torce, che sono i due fatti d'arme che cambiano un po' il quadro strategico della campagna mediterranea. Io direi anche, soprattutto Torce. Noi c'eravamo fermati la scorsa volta qui ad El Alamein e grazie all'ausilio, insomma, della mappa che ho un po' aggiornato e che stasera ci aiuterà un po' a collocare gli eventi, ci sposteremo sulla mappa e la ritirata delle forze dell'asse correrà lungo tutto l'Egitto, la Libia e porterà poi all'abbandono stesso della quarta sponda della Libia italiana nel gennaio del 43. L'occupazione della Tunisia da parte delle forze dell'asse avverrà pochissimi giorni dopo lo sbarco degli alleati nel Nord Africa francese, anzi già il giorno dopo gli sbarchi, già il 9 novembre, ci saranno dei reparti abiotrasportati tedeschi che arriveranno in Tunisia, il 12 novembre arriverà il primo convoglio italiano a Biserta che sbarcherà diversi reparti e in quella fase c'è la prima fase della campagna tunisina, c'è in sostanza il consolidamento della testa di ponte nel Nord e poi solo successivamente le due armate che ancora non erano state di fatto organizzate ma si sarebbero organizzate di lì a poco, la quinta armata tedesca a Nord e quella che una volta era l'ACIT e poi sarebbe diventata la prima armata italiana, a Sud si ricongiungeranno più in laggia nei primi mesi del 43. Questo è un po' l'antefatto. Nel frattempo la regia marina che si era dissanguata per rifornire il Nord Africa continuerà a dissanguarsi nel rifornimento del Nord Africa, si troverà in una situazione in cui si dovrà scegliere tra rifornire la Tunisia o la Tripolitania e l'impossibilità di rifornire ambe due porterà inevitabilmente a scegliere poi per la Tunisia ed abbandonare la Tripolitania. Poi questo ci ripasseremo anche dopo. Quindi, ho detto che Torch è forse più di Alamein l'elemento che spariglia le carte e da quello che si legge anche nelle memorie, nei diari ma anche in altri testi era quello che all'epoca i protagonisti percepivano. Io vorrei dare la parola a Giovanni che lui sul suo canale sta facendo un bellissimo lavoro di lettura di documenti originali, memoriali, dei protagonisti di quella stagione e che vedono un po' torce l'entrata nel teatro gambatesa, direi, degli americani come un qualcosa che cambia radicalmente la situazione. Senza dimenticare che nel frattempo, nello stesso periodo, c'è poi il disastro sul fronte orientale, la perdita dell'Armir, quindi tutta una serie di eventi che fanno realizzare meglio di qualunque altra cosa prima che la situazione sta davvero cambiando. Innanzitutto saluto tutti quanti e ringrazio Giulio per l'invito e per questa interessante, questa stimolante serata che ci porterà ad affrontare dei temi particolarmente affascinanti anche in occasione degli ottantesimi anniversari che stiamo vivendo, non fosse altro perché oggi è 24 di luglio. Giustamente tu dicevi dell'importanza di Torch molto più di rela main. Questo è vero perché, secondo me, per una questione meramente psicologica, spesso noi andiamo a leggere i fatti militari per il loro senso operativo, per il loro senso tecnico, una divisione contro un'altra, tre divisioni contro una, l'elemento quantitativo e qualitativo. Invece l'elemento dirompente dell'ingresso degli americani nel fronte del Mediterraneo comporta sia un elemento nuovo rispetto all'equilibrio che c'era stato, perché abbiamo visto negli ultimi tre anni circa una tendenza fisarmonica tra la Libia e l'Egitto, in cui da una parte c'è un'avanzata, una ritirata, un'avanzata, una ritirata, quindi dal settembre del 40 fino al due anni e un pezzo, fino a Deralamei in ottobre-novembre del 42, e poi piano piano quel grande riflusso che sarà l'ultimo che si andrà a concretizzare appunto a partire dall'Egitto. E appunto l'ingresso anche degli americani nel contesto mediterraneo porta due elementi importanti. Allora, quindi, primo, il fatto che anche gli americani sono presenti a livello terrestre, che era un elemento inedito fino ad allora, cioè in Europa non c'era stata prima di allora un intervento di questo tipo, e quindi comporta anche una necessità di far fronte a un altro nemico, che fino ad allora era soltanto potenziale, era soltanto visto a livello aereo navale, aereo terrestre, tant'è che le stesse divisioni americane non faranno una buona figura, nel senso che, diciamo, specialmente l'elemento di impreparazione, l'elemento anche di difficoltà a sostenere un'elemento così difficile come quello nordafricano, a confronto gli inglesi dei veterani e con il loro anche senso un po' snobbistico glielo fanno pesare, no? Dice, voi siete gli ultimi arrivati, noi comportiamo dal 39, voi siete fra un posto arrivati da poco, quindi in qualche modo dovete pagare dazio di alcune tipo di sconfitte. Ma oltre a questa, appunto, necessità di carburare, ma che potenzialmente c'è un bacino inesauribile, no? Perché gli Stati Uniti metropolitani non sono stati toccati dalla guerra, a parte ovviamente le Hawaii, ma sappiamo che non è territorio metropolitano in senso stretto del termine, quindi hanno un'industria che produce in maniera illimitata, un bacino di soldati, anch'esso vergine possiamo dire, e allo stesso tempo il secondo fattore è il reinserimento della Francia, che è questo che è un dettaglio che secondo me spesso viene omesso, viene sottovalutato, per carità, non è che rientra la Francia in grande stile, nel senso che le forze di De Gaulle ci sono sempre state, in qualche modo hanno contribuito a spizziche e bocconi in vari contesti, ma il fatto che la Germania e l'Italia si debbano preoccupare di mettere piede, di tenere testa ai territori della cosiddetta Francia libera, è comunque un impegno maggiore, perché appunto lo sbarco nel Maghreb comporta sia l'imminente occupazione da parte di tedeschi italiani e della Tunisia, ma anche della Corsica, e di tutto il territorio della Francia meridionale, all'Italia toccherà la zona fine a Rodano, e quindi che comporterà, comunque un'armata, la quarta armata viene impegnata nella zona tra Nizza e Lione, quindi in qualche modo non è che stiamo parlando di poche unità, è un'armata che comunque devi dislocare nella Francia meridionale, stessa cosa, un corpo d'armata lo devi mandare in Corsica, quindi capite bene come questo discorso di un siamo ad averli a Oriente, ma c'è qualcosa a Occidente che in qualche modo seppur in maniera aggrata però sconvolge l'equilibrio, l'equilibrio mediterraneo che in qualche modo ha una necessità di far fronte a due contesti messo in show col crollo della Francia nel giugno del 40, cioè tutte le 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 dell'attacco dalla Tunisia e dall'Egitto che erano stati oggetto di tanti studi nella primaria del 40 con l'armistizio della Francia era sostanzialmente decaduto e quindi qui ritorna e quindi a livello psicologico è un fattore che non può essere non può essere che fonte di preoccupazione non fosse altro perché devi badare a un altro a un altro contesto certo poi ovviamente nella nelle limitate risorse economico-militari dell'Italia ma anche se guardiamo il campo delle alleanze della Germania rispetto agli alleati ovviamente questo pesa per di più ci dimentichiamo ogni tanto il fatto che per i tedeschi il Mediterraneo era considerato non era il fronte principale e veniva forse visto solamente come un fronte dove tamponare gli italiani e molto tardi si renderanno conto che ben altre truppe sarebbero servite per evitare il tracollo dell'Italia che comunque aiutava a tenere lontani le armate alleate dal territorio metropolitano appunto del Reich comunque almeno un paio di volte Romer si lasciò andare con i suoi subalterni al fatto che se gli avessero affidato solamente altre due divisioni tedesche lui probabilmente sarebbe riuscito finalmente a ribaltare questo fronte e arrivare magari al delta del Nilo questo sicuramente lui era conscio del fatto che la Germania proprio non si era voluta impegnare a fondo nella campagna in Nord Africa e d'altronde era conscio anche del fatto che gli italiani non potevano garantirgli quelle che due divisioni panzer tedesche li avrebbero consentito di fare quindi risaputo insomma che i tedeschi non hanno mai considerato questo fronte come una priorità al massimo lo potevano considerare come un un'atenaglia dal da meridione che poteva andare a impastidire verso il caucaso o verso quelle zone petrolifere dell'unione sovietica a cui Hitler aspirava insomma quindi quello era l'unico motivo per il resto era semplicemente un favore che Hitler faceva a Mussolini per non vederlo così sconfitto nel suo teatro di guerra mediterraneo che doveva essere quello che avrebbe portato alla gloria dell'impero italiano insomma c'è poi una cosa che Giovanni ha dato lettura di molti documenti anche carteggi tra Hitler e Mussolini dove a un certo punto Hitler si sveglia diciamo passatemi il termine realizzando che i i trasporti marittimi sono importanti parla dei trasporti marittimi lo stesso Hitler che centelinava la nafta alla regia marina per dirne una sento dell'abbaiare in sottofondo non so da chi è se nel frattempo riuscite a mutare così non sentiamo va bene dicevo emerge questa cosa ma poi ovviamente c'era da una parte il centelinare la nafta ma poi anche non vedere il problema c'è spesso anche da parte di Deniz dire ma la flotta italiana non fa niente come se le corazzate dovessero incrociare a largo la Tunisia e fare qualcosa è una zona per di più ora la volevo far vedere in questa in questa slide una zona dove intanto che tu cerchi permettimi un commento sulla sulla l'affermazione di Rommel però diciamo Rommel è ingeneroso per il semplice fatto che probabilmente se fosse stato in un altro fronte non avrebbe avuto quella libertà d'azione e quella faccia di bronzo che ha avuto in Libia nel senso che se fosse andato in Russia sicuramente stava sotto padrone di qualcuno di qualche altro generale e non avrebbe avuto quella libertà d'azione che invece gli hanno permesso che gli ha permesso Hitler e gli ha permesso quindi anche Mussolini di maltrattare i generi italiani non che i generi italiani diciamo non è diciamo non è che li voglio giustificare esatto non è che diciamo probabilmente era giusto che venissero maltrattati però diciamo che Rommel è arrivato con come comandante di corpo d'armata che in Russia era non era non era un grado altissimo diciamo rispetto al fronte della Libia è arrivato e ha fatto la sua più che dignitosa carriera riuscendo a comunque impegnare sempre poche truppe sia le sue che quelle dell'avversario quindi quando Stalin recriminava Churchill vabbè ma state combattendo contro solo un'armata in 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 Libia e quando diciamo che di armate nel fronte ruso ce n'erano un po' di più leggermente un po' di più si capisce pure bene che diciamo che Rommel non è che potesse recriminare di comandare poco comandava in base al tipo di attività che era stata assegnata quindi c'era tutto relativo alla situazione generale quindi questo è ovvio andava precisato perché se no poi non capiamo effettivamente nell'economia del conflitto quanto poco venisse considerato per i tedeschi il fronte del Mediterraneo con tutto quello ovviamente che è stato già detto e che andremo a precisare dopo perché comunque poi lo strascico prosegue perché nel 43 le cose cambiano forse cambiano un pochetto dopo il 25 luglio ma prima il 25 luglio le unità che Berlino manda prima al di là del Mediterraneo e poi nell'Italia e in Sicilia sono sempre molto limitate rispetto ovviamente a Cusk perché capirci per i tedeschi lì si vince la guerra lì si combatte per la sopravvivenza il Mediterraneo è un fronte più che secondario scusate mi sembrava interessante aggiungerlo ha fatto benissimo a dirlo hai perfettamente ragione ma sai lui lo dice al termine della prima battaglia di Alamey quando lo sconforto è più grande in lui lo scrive anche nelle lettere che manda la moglie di questa situazione così sconfortante e lui si rende conto magari forse vuole anche recriminare oppure lavarsi anche un minimo la coscienza del fatto che lui ha tentato questo grande azzardo lui ha fatto la grande scommessa di poter infrangere la struttura di Alamey con quelle pochissime truppe che aveva al suo seguito alla fine di giugno del 1942 dopo le tremende perdite subite a Gazzara lui fa questo azzardo sa che ha un lasso di tempo dopo il quale si chiude ogni sua speranza di vita nel teatro russo tutto sommato puoi recuperare la situazione in qualche maniera nel teatro nordafricano sono come dicono gli americani un game changer non da poco quindi lui sa che deve arrivare sul delta del Nilo prima che arrivino questi rinforzi che Roosevelt ha inviato e quindi si presenta con delle forze ridotte al minimo la novantesima ha tre battaglioni che possono combattere in quel momento credo che non arrivi ad avere 24 cannoni funzionanti la Trieste ha 1500 uomini sono divisioni che sono solamente sulla carta come nome non hanno proprio la forza di poter infrangere la linea inglese non che l'ottava armata fosse messa molto meglio sicuramente poi aveva un morale bassissimo però una sistemazione difensiva come può dire la Maine gli inglesi tengono e quindi come diceva prima giustamente Giulio la grande la grande vittoria strategica è quella è la prima battaglia dire la Maine la terza è una battaglia completamente inutile fortemente voluta da quel grande generale ego riferito come come Montgomery e dal suo padrone a Londra che volevano assolutamente la vittoria inglese prima che arrivasse agli americani ma non era una battaglia completamente inutile con Torch che avveniva lì due settimane dopo che loro iniziarono la battaglia l'asse era costretto da forza a ritirarsi era una battaglia che non aveva un senso no e poi diciamo sì dopo dopo quegli eventi di quell'estate finire 42 avremo un Rommel che è anche psicologicamente provato che anche nella campagna di Tunisia tutti si renderanno conto della sua diciamo crisi psicologica il suo la perdita di tocco che non aveva che aveva perso ormai abbiamo parlato di Alamein ritirata attraverso la Tunisia scusate attraverso l'Egitto e la e la Libia e arriviamo sulla linea del Maret dove entra in 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 scena un un personaggio un italiano che avevamo già visto sul fronte sul fronte orientale che risponde al nome di Giovanni Mess che prenderà il comando della prima armata italiana cioè i resti dell'ACIT i resti dell'ACIT che verranno ridenominati prima armata italiana verrà verrà rinforzato comunque di nuove unità che erano arrivati in quel periodo penso alla la Pistoia la divisione Pistoia poi unità come la divisione dei giovani fascisti che erano rimaste nelle retrovie non ne avevano partecipato ad El Alamey insomma poi arriverà affluirà la Centauro l'altra unica divisione corazzata che era rimasta in Italia e e vedrà insomma un gran un gran numero di azioni avvenimenti perché anche riguardando un po' gli avvenimenti gran parte delle delle battaglie principali avvengono nel fronte sud nella parte nel settore della prima armata dove all'inizio c'è ancora un uno stanco Rommel che avrà il suo canto di cigno con l'operazione su Casserin una vittoria un po' diciamo di Pirro però poi dopo poco lui tornerà in Germania Andrea c'è il muto scusa ecco sì ma lui in realtà riprende un po' il suo tocco che aveva perso nella nella seconda nella terza battaglia di Alamein lo riprende facendo una ritirata magistrale per per mille chilometri una 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 ritirata posta sotto il continuo martellamento della raft con la Royal Navy che può andare tranquillamente a bombardarlo lungo la costa senza che nessuno la regia marina intervenga per per aiutarlo e con un nemico preponderante in termini numerici lui con delle unità battute con il morale sotto i tacchi avendo abbandonato interi corpi di armata italiani a Alamein e ritirandosi con quelli diciamo che è in grado di portare via con i camion lui riesce a portare tutti questi uomini fino alla linea di Alagaia a Buerat e li riporta tutti praticamente in ordine poi va di nuovo a costituire un'altra linea difensiva fino a OMS misurata e poi decide giustamente lui in animo aveva chiesto amando visceralmente i suoi veterani dell'Africa Corps aveva chiesto a Berlino e a Roma la possibilità di fare una Dunkirk africana che portasse via questi facessi imbarcare dall'Africa ma non c'erano né i mezzi e soprattutto la volontà politica di anche solo di invastire il pensiero e i piani di poter fare una cosa del genere Mussolini era convinto di preservarsi la quarta sponda così erano tanti generali italiani a Comando Supremo quelli che erano sul campo si rendevano benissimo conto che non questo non era possibile farlo c'è un brano di questo sottotenente dei Granatieri il quarto battaglione anticarro ai Granatieri Gaetano De Rosa che poi diventava anche uno scrittore famoso nel dopoguerra che lui dice siamo arrivati a Tripoli è venuto un colonnello a dirci riparte da qui la nostra guerra noi ricominciamo da qui e sconfiggeremo gli inglesi io l'ho guardato e ho detto ma con quali armi? loro erano un battaglione controcarro non avevano più neanche un 47-32 non avevano nulla avevano solamente le pistole e i 91 quindi è difficile poi quando hai delle unità ridotte in questa maniera tant'è vero che poi il quarto controcarro dei Granatieri finirà insieme ai resti della Folgore a rimpolpare il 66esimo reggimento della Trieste perché la Trieste era ridotta anche lei quindi abbiamo delle unità che sono praticamente dei mischioni di unità precedenti che vanno a formarsi la Trieste è l'unica l'unica divisione uscita da El Alamein cioè integra no però come integra assolutamente no però come unità che poi non si è disfatta assolutamente no ma penso che la Trieste non solo si è fatta tutta la ritirata ha combattuto sul Maret combattuto bene sul Maret ha combattuto sulla linea del Wadi Akarit ha combattuto sulla linea di Enfidaville la battaglia più importante della linea di Enfidaville che è quella quella di Takruna e la Trieste con il 66esimo Panteria che si distingue nella battaglia di Takruna che diventava uno dei capisaldi della nostra storia militare nostra dei neozelandesi e avevano ancora la forza di combattere ed erano come diciamo prima un mix di queste tante unità che avevano combattute che non erano più unità organiche in grado di combattere individualmente ciò nonostante combattono bene perché la prima armata italiana che è la prima grande unità comandata da un generale italiano a cui c'è appunto Giovanni Messa la prima grande unità italiana a contenere al suo interno anche delle unità tedesche cosa che nella guerra ancora non era mai successa una cosa interessante i soldati della prima armata italiana sono dei veterani e gente che ha combattuto c'è gente che è lì dal 1940 addirittura la gran parte sono quelli che si sono fatti il 1941 e il 1942 per intero e adesso nel 1943 sono ancora lì a combattere quindi è gente che la guerra nel deserto la sa fare va ovviamente detto che le condizioni del terreno sono completamente diverse tra la Libia e la Tunisia non c'è più il deserto quindi cambia completamente il modo di combattere questo terreno piatto con un 88 che ti potesse entrare un carro armato da 3 km di distanza come succedeva al passo Alfaia o in quelle battaglie che hanno diventato famose per gli 88 non era più possibile farlo in compenso la Tunisia con i suoi avvallamenti le sue colline c'era oltretutto una cosa che in Libia non esisteva quindi c'erano alberi c'erano boschetti permetteva un tasso di mimetizzazione infinitamente superiore delle unità rispetto alla e anche qui quindi gli 88 potevano essere mimetizzati nascosti nel territorio quindi se da un lato non c'era più la possibilità di colpire da così lontano i carri armati quando apparivano sulla linea dell'orizzonte però dall'altro lato però c'era il fatto che si poteva nascondere a quello che gli italiani e i tedeschi temevano più di tutti cioè lo strapotere aereo degli alleati questa continua presenza dei bombardieri soprattutto dei cacciabombardieri che con mitragliamenti e spezzanamenti rendevano la vita soprattutto l'unità di artiglieria veramente un inferno Rommel quando riesce a portare tutte queste truppe fino alla linea del Maret linea del Maret che paradossalmente era stata pensata dai francesi anteguerra come un murale per fermare un'eventuale invasione italiana dalla Libia portata da quella che doveva essere la quinta armata italiana verso appunto il sud della Tunisia adesso gli italiani la rimettono in funzione con questi suoi bunker questi suoi appestamenti aveva un grosso fossato anticarro quindi la rimettono in funzione nei mesi che vanno tra il dicembre diciamo e il marzo del dicembre del 42 e il marzo del 43 ci fanno lavorare circa 10.000 lavoratori e riesco in qualche maniera a mettere un'opera difensiva piuttosto valida Rommel arrivato in Tunisia dimostra che le idee anche se fisicamente è prostrato le idee però sono ancora buone decide di fare quella che Napoleone chiamava la manovra per linee interne quella cosa che tante soddisfazioni vanno a colpire portandosi dietro le sue unità migliori cioè quelle corazzate di colpire gli americani che si stavano formando nella zona di Tebessa El Guettar Casselin e Gafsa decide di di colpirli subito per poi ritornare immediatamente e colpire la tavarmata che a suo dire ancora non si era completamente assestata che doveva essere nella zona di Medenine più o meno quella era la zona di confine esatto Medenine da una parte gli va bene chiede la collaborazione della quinta armata tedesca che era l'altra armata che i tedeschi avevano mandato per fermare la prima armata inglese che stava avanzando dall'Algeria verso la Tunisia ricordiamo che venendo da ovest verso est c'è la prima armata inglese lungo la costa poi c'è il diciannovesimo corpo d'armata francese a metà tra queste il secondo corpo d'armata americano più a sud i tedeschi e gli italiani si devono difendere da queste unità nuove che stanno arrivando e contemporaneamente difendersi anche dall'ottava armata che giunge da sud quindi sono molteplici le linee di attacco da cui gli italo-tedeschi si devono difendere Romer pensa bene di eliminare subito il problema americano in qualche maniera ci riesce perché con le poche truppe e i pochi carri armati che ha lui chiede addirittura la decima divisione panzer a Von Arnim che è il comandante della quinta armata con il quale non correva buon sangue infatti lui gli dà Romer si lamenta subito perché Von Arnim gli dà la divisione panzer a tempo questo è tipo un gettone metti il gettone e poi finito il gettone la divisione panzer ritorna immediatamente al vecchio proprietario quindi gli dà la decima divisione panzer solo per mi sembra per un quattro giorni in questi quattro giorni lui riesce a sconfiggere questi le truppe della prima divisione di fanteria e alcuni combat della prima divisione parazzata però Romer sperava di arrivare a Tebessa ma la decima viene richiamata a nord perché deve andare a combattere contro i francesi e Romer ha solamente la la ventunesima panzer e la quindicesima che però è rimasta più indietro anche se non sbaglio una colonna della centauro che però poteva era centauro esatto era quel velo che stava esattamente tu vedi qui nella cartina vedi ma che nasce spax ecco quella era la centauro era il velo che doveva proteggere le spalle della linea del mare praticamente questa divisione che constava mi sembra di 6.000 neanche 6.000 uomini aveva tipo 70-80 carri armati M14 aveva 6 75-18 poi aveva degli L40 come riempitivi al posto dei 75-18 che non è praticamente la stessa cosa se devi affrontare degli Sherman insomma e poi aveva bersaglieri motociclisti un reggimento di bersaglieri e con questo poco insomma la centauro riesce in ogni caso aiutata dal terreno come dicevamo prima ecco qui vediamo proprio i 6 moventi da L640 aiutato dal terreno la centauro riesce a ritardare a fermare in continuazione l'avanzata degli americani però come si può dire in termine tecnico militare gli dà una bella panacca agli americani ma loro in poco tempo grazie ai rinforzi grazie all'enorme quantitativo l'enorme ricchezza logistica che hanno riescono a riprendere soprattutto gli americani Eisenhower fa una cosa molto intelligente manda via il generale che è rimasto a guardare gli attacchi tedeschi e italiani il generale Fredendoll e lo sostituisce con un ragazzetto che si farà le ossa diventare abbastanza famoso un certo George Patton terzo questo questo Patton aveva delle idee completamente diverse da quelle di Fredendoll che diceva noi siamo nuovi alla guerra dobbiamo prima osservare valutare muoversi con prudenza no Patton dice alla guerra se si fa bisogna farla per bene quindi adesso si va all'attacco e ammazziamo quanti più nemici possiamo ammazzare un moderato lui un moderato un moderato si si ma vedremo poi in Sicilia quanto era moderato infatti Patton lì proprio è il trionfo della moderazione di Patton esatto sotto tutti gli aspetti sia nei confronti degli italo tedeschi ma sia anche nei confronti dei propri stessi soldati quindi tra l'altro appunto va bene non anticipiamo niente ma comunque fu il motivo perché poi lo mandarono via dal trattore di guerra italiana su questa sua moderazione questa sua temperanza nei confronti degli subordinati comunque Patton era quello che ci voleva Patton era quello che riorganizza soprattutto fa alzare il morale queste truppe così timide come le americane e le trasforma non diciamo in una macchina da guerra come sarà poi la sua terza armata in Francia perché quella è tutta un'altra cosa però sicuramente non sono più quelle timide truppe paurose anche solo di vedere apparire un M14-41 e gli insegna a combattere ma più che insegna a combattere gli insegna a dosare che è la cosa che lui sapeva fare più di ogni altro generale americano diciamoci la verità Patton è l'unico generale americano non ci sono altri generali nella seconda guerra mondiale gli altri sono degli straordinari manager dei manager della guerra meravigliosi cioè Eisenhower lo stesso Bradley sono dei manager che riescono a farti vincere la guerra grazie alle loro capacità logistiche di coordinamento amministrative politiche anche soprattutto politiche in case invece Patton è un militare Patton è un militare dalla testa ai piedi oltretutto sapete bene io ho scritto questo libro che si intitolava Centrici in guerra e uno dei miei centrici era anche Patton perché un uomo che aveva delle particolarità piuttosto sviluppate lui era convinto di essere la reincarnazione di tanti suoi antenati una famiglia di militari lui veniva da questo generale che era stato ucciso durante la guerra di indipendenza dagli inglesi e aveva un bisnonno e un fratello del bisnonno tutti e due generali confederati che erano morti uno a Gettysburg e l'altro era morto insieme a Stonewall Jackson a Cancellorsville quindi e lui diceva di parlarci con questi con questi antenati che lo valutavano lo giudicavano su quello che aveva fatto durante tutti i giorni quindi lui non poteva deluderli era convintissimo nonostante che lui poi fosse un presbiteriano convinto quindi proprio un uomo religioso che pregava lui addirittura anche durante le battaglie si fermava per dieci minuti per pregare tutti in quei dieci minuti nessuno lo poteva disturbare perché lui doveva assolutamente pregare poi era anche convinto che però dovesse saper tre minuti di seguito senza mai ripetersi cioè sono sempre gestegne differenti quindi anche questa era una delle tante contraddizioni meravigliose di questo personaggio incredibile e poi tante particolarmente tantissime lui aveva questo pitbull terrier Willy da William De Conqueror William Conquistatore certo che lo seguiva ovunque lo portava ovunque ed era quello che lui gli faceva annusare tutti quelli che entravano nel suo staff dai colonnelli fino allo scritturale che doveva andare a fare solamente a battere a macchina quello che Patton diceva se Willy non ringhiava o non abbaiava questa persona entrava a far parte dello staff di Patton ma se c'era un sempre una semplice grunito questa persona veniva allontanata immediatamente questo è il particolare di quest'uomo che però era un soldato era un veramente un uomo di azione un uomo nonostante che noi anche nel film che abbiamo fatto un generale d'acciaio lo vediamo come un grande uomo d'azione in realtà era comunque un uomo che aveva una cultura di storia militare infinita praticamente lui non faceva altro che leggere 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 e poi leggeva cose e andava a fare ricerche negli archivi che al giorno d'oggi cioè veramente riminiamo quando lui va in financia che deve andare a combattere con la terza armata e dirigersi verso la Germania lui va a studiare dove erano le strade le antiche strade che i normanni avevano fatto costruire perché dicessi quelle erano le strade dove passava la cavalleria dei normanni significa che sono state costruite in dei luoghi in cui le inondazioni le altre cose non arrivavano e quindi vanno benissimo anche per i miei carri armati quindi c'è assolutamente incredibile di storia militare che altri generali non mi risulta proprio uno come Montgomery una cosa del genere ad esempio non avrebbe mai no no assolutamente uno che faceva le conferenze di nelle conferenze faceva girare dei soldati con i cartelli vietato tossire perché considerava un affronto totale che se qualcuno tossia dov'entra una sua conferenza un uomo di un 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 manager della guerra anche lui ma lui adesso non vogliamo iniziare mi candiderei a a PM argomenti per un'altra live no volevo parentesi Giovanni ha fatto la recensione ha fatto praticamente c'è una storia del metto perché siccome lui era un generale a quattro stelle lui aveva questa fissa delle stelle e si ha il il berretto da ufficiale quello normale con la visiera non c'erano le stelle ok mentre lui praticamente portava addosso mi sembra 28 stelle perché ce n'era quattro sull'elmetto quattro sul colletto di qua quattro su colletto di là poi le aveva quattro le spalline sulle spalline altre spalline e poi aveva le due colt peacemaker 45 con il calcio in madreperla con quattro stelle quindi lui andava in giro era un'intera costellazione era portando l'elmetto o la bustina lui poteva mettere le stelle che era una cosa che lui ci teniva tantissimo mentre se doveva mettere il berretto con visiera non poteva mettere le stelle aveva assolutamente l'acqua dell'esercito americano quindi non non questa lui questa cosa delle stelle ci teniva tantissimo a far sapere appunto del suo grado e della sua potere sulle stelle permettetemi un aneddoto un aneddoto non che riguardi Patton ma che riguarda gli italiani che avendo gli italiani le stellette al bavero quindi una stella che era il simbolo in Italia il simbolo dello status militare ci furono un gruppo di soldati italiani catturati dagli americani e gli americani abbiamo catturato un gruppo di generali erano semplicemente dei soldati che avevano la stella e quindi questa è una cosa che venne riportata di simpatico della Tunisia questa cosa un gruppo di maggior generali esatto un'infinità di maggior generali no erano semplicemente soldati di truppa che avevano la stelletta perché in Italia così si usa fantastico infatti i volontari tunisini perché c'è una comunità italiana in Tunisia che vengono ruolati dentro la quinta armata tedesca non avevano delle mostrine e questi qui portavano solo le stellette quindi probabilmente erano questi soldati qui che erano quelli che erano stati catturati o altri che magari in qualche modo non avevano altri segni allora vi fermo scusate vi fermo un attimo volevo volevo riagganciarmi a questa slide che avevo fatto vedere prima per riparlare un secondo dei trasporti marittimi e poi volevo ripassare a Giovanni e poi dopo vediamo un po' la fine della campagna allora queste macchie che vedete nel mare non sono il risultato di un particolare estro creativo ma sono campi minati ovvero sono partendo dalla destra ci sono due campi minati che erano stati messi dagli italiani all'inizio della guerra poi questo più in verdino che passa da Capobon fino alla Sicilia era stato messo dagli italiani tra il 41 e il 42 quell'altro verde all'estremità superiore era un campo minato messo dagli italiani subito dopo l'occupazione di diserta per proteggere i traffici tra la Sicilia e la Tunisia le due macchie rosse più o meno corrispondono a dei campi minati che disposero gli inglesi nel mezzo del corridoio italiano e quindi i rifornimenti delle forze dell'asta erano fortemente dipendenti da queste rotte obbligate e quindi gli alleati sapevano benissimo dove sarebbero passati i convogli italiani sapevano anche ovviamente aiutati dalle decrittazioni di ultra sapevano abbastanza bene le tabelle di marcia e quindi è passata un po' alla alla storia la rotta dei convogli tunisini come la rotta della morte dove insomma diversi cacciatorpediniere corvette torpediniere andarono per lui tra l'altro per ovviare alla scarsità di naviglio mercantile per trasportare uomini e rifornimenti anche soprattutto la scarsità di navi veloci per eseguire del trasporto cacciatorpediniere come questi venivano utilizzati per trasportare truppe ci sono delle percentuali molto alte di personale militare trasportato proprio su queste su queste navi ovviamente queste navi poi incappavano anche in situazioni molto spiacevoli come questo questo è l'ascari che finì in un campo minato dove si vide asportata prima la prua e poi la poppa e insomma immagini riprese da un aereo dove si vede la nave stipata di mi pare ci fossero diversi militari tedeschi a bordo proficinto da affondare quindi questa era una delle sorti sciagurate che capitavano a queste navi appunto sulla rotta della morte detto questo poi più o meno il 93% del personale il 79% dei materiali venivano vennero consegnati poi diversi di questi materiali venivano poi distrutti in porto perché l'offesa alleata si concentrava molto anche sui porti quindi non sappiamo bene quanto effettivamente di quei materiali poi arrivò alle truppe ovviamente se si guarda poi l'economia generale dei mezzi anche se tutto quello inviato fosse arrivato a destinazione non c'era comunque storia nella nella lotta di nella material schlacht la lotta di materiali che si che si svolgeva in quel momento vorrei ora ridare un attimo la parola a Giovanni per vedere come in quel periodo era vissuto lo sforzo dell'asse in Tunisia sappiamo che da parte italiana c'era la consapevolezza che la situazione non era affatto orosea e in quei mesi si concretizza cioè si concretizza è un parolone ma si fanno avanti sempre più pressanti le proposte italiane verso la Germania di fare cercare una pace separata con i sovietici per reindirizzare lo sforzo dell'asse verso il verso il Mediterraneo qual era un po' la la situazione il discorso è questo rispetto a quello che giustamente ha detto Andrea sull'aspetto tattico operativo il punto è capire cosa bisogna fare da grandi nel senso sì stiamo in Tunisia diamo una mazzata agli americani resistiamo con gli inglesi la Tunisia ha una conformazione morfologica che è più adatta potremmo dire più adatta alla difesa sia perché le truppe dell'asse sono comunque concentrate in un territorio abbastanza compatto seppur la Tunisia sia ampia come superficie però sicuramente è meno estesa rispetto alla Libia è sicuramente più difendibile perché si è visto in due anni e mezzo che la mobilità di mezzi permette a cerchiamenti diciamo scavalcamenti nel mezzo al deserto invece con una realtà composta da altipiani da elementi naturali che in qualche modo struiscono che permettono la difesa garantiscono come effettivamente poi si garantirà circa sei mesi di resistenza in Tunisia però qual è l'obiettivo nel senso è auspicabile poter battere gli angloamericani e poter in qualche modo rovesciare le sorti della guerra in Nord Africa solo un matto avrebbe potuto poter pensare una cosa del genere era ovvio che ormai ormai si era incanalati in un imbuto in un in un cul de sac lo stesso sommesse quando viene incaricato del comando della prima armata è consapevole che è mandato allo sbaraglio anzi diciamo che ce l'ha mandato Cavallero non dico apposta però in qualche modo per vendicarsi dell'antipatia reciproca che esisteva tra i due quindi in qualche modo è ovvio che sia a Roma che a Berlino ovviamente con delle sensibilità totalmente diverse si è consapevoli che in Tunisia l'unico obiettivo è quello di durare durare il tempo più tempo possibile ma non è possibile all'infinito nel senso che in qualche modo vi deve essere una un cambiamento a livello strategico da qualche altra parte per per i tedeschi questo cambiamento dovrà avvenire necessariamente in Unione Sovietica perché perché l'Unione Sovietica dal dal 41 dal giugno del 41 ma in realtà lo era pure prima non diciamo non era stato dichiarato in maniera palese ma l'obiettivo del Reich è quello di conquistare lo spazio vitale nel verso verso l'Unione Sovietica quindi è ovvio che Hitler non avrebbe mai potuto chiedere una pace separata a Stalin sia perché non era nel suo nel suo atteggiamento nella sua mentalità nei suoi propositi ma ovviamente anche per la brutalizzazione completa che il fronte russo ha raggiunto nel senso che l'esasperazione l'odio razziale il tipo di di abbrudimento proprio anche nei combattimenti nel tipo di di attività anche nei confronti della popolazione civile stermini e tutto ciò che ovviamente ha comportato era impensabile che vi potesse essere un un qualcosa di di termine della guerra sul fronte orientale cosa che invece era nelle negli intenti dell'Italia ecco quindi come a partire da 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 era la main no dalla terza battaglia della main quindi abbiamo visto siamo arrivati a fine ottobre primi novembre dicembre nel frattempo c'è la torch e qualche modo si capisce che la guerra si sta rivolgendo contro contro l'Italia la guerra nel Mediterraneo quindi diciamo che ovviamente in quelle condizioni se non siamo riusciti abbiamo perso l'impero abbiamo perso la Libia stiamo combattendo con le unghie e con i denti in Tunisia beh diciamo che qualcosa deve cambiare altrimenti veniamo travolti e il prossimo obiettivo sarà l'Italia che possa essere la Sicilia che possa essere la Sardegna che possa essere qualche parte però in qualche modo il Mediterraneo diventa un lago alleato e in qualche modo la guerra si rivolta proprio ce la troviamo dentro casa e quindi ecco come a partire appunto dal febbraio del 1943 e non è un caso che nel febbraio del 1943 c'è l'ultimo grande rimpasto del governo Mussolini a fine gennaio è stato defenestrato Cavallero Cavallero anche per la sua la sua implicita vicinanza con la Germania sembra un paradosso la guerra la stai facendo con la Germania quindi non puoi essere antitedesco ma Cavallero con la sua capacità istrionica da grande diplomatico questo diciamo prima giustamente tu Giulio parlavi della differenza dei generali americani come vi fosse una stragrande maggioranza di manager anche Andrea ha detto era l'unico vero generale di unità elevata sopra la divisione per capirci dal corpo d'armata in su era uno che la guerra la voleva fare la sapeva rischiava in prima persona antecchia ha pagato ha pagato perché comunque è stato rimosso un paio di volte perché rischiava su se stesso e ha commesso degli errori ma altri generali suoi colleghi pensiamo a Clark a Lucas avrebbero commesso errori diversi perché perché erano troppo prudenti perché volevano giocare sul sicuro perché non avrebbero mai potuto voluto rischiare e allo stesso tempo Cavallero è forse il più americano dei generali italiani uno che appunto proveniva sembra un paradosso proveniva dall'industria Cavallero che nella sua carriera faceva una sorta di porta girevole tra comandi militari e ruoli nelle industrie della Pirelli Lansaldo eccetera poi alternava anche incarichi politici è stato sottosegretario al ministero della guerra ha avuto ruoli in colonia quindi diciamo che sicuramente è un personaggio particolarmente eclettico e questa sua questo suo essere eclettico lo ha portato spesso ad essere molto accomodante anche forse troppo accomodante nei confronti tedeschi e questo è un elemento che sicuramente ha contribuito all'ascesa di Rommel qui facciamo un passo indietro nel 42 ma non è esatto sì sì ma era stato era stato un capoccione anche perché era comunque molto intelligente ha lavorato in matematica conosceva 3-4 lingue traduceva correntemente dal latino dal greco dal tedesco quindi sicuramente oltre ad aver avuto una come si dice una carriera molto ricca di avvenimenti era stato come ufficiale superiore alla corte di Cadorna nel comando supremo 15-17 poi con Diaz poi era stato da generale di brigata capo delegazione a Parigi alla conferenza della pace nel 19 quindi diciamo che non era non era un sciocco era uno che conosceva gli ambienti militari era stato ripeto anche sottosegretario nella seconda metà degli anni degli anni 20 si era scornato con Badoglio tutte e due del Monferrato tutte e due particolarmente ambiziosi quindi diciamo che sapeva fare il suo mestiere e aveva una grande capacità di mediazione però ovviamente la mediazione funziona fino a un certo punto nel senso finché le cose vanno bene la mediazione va bene finché le cose vanno male sei il primo che ci lasci il posto e quindi ecco come all'inizio del mio 143 lascia il posto ad Ambrosio Ambrosio più questo questo viene la foto accanto a Kesselring sì esatto Ambrosio anche lui piemontese paradossalmente i capi di stato maggiore generali saranno tutti piemontesi finché ci sarà il regno d'Italia quindi poi sono tre sostanzialmente Badoglio Cavallero e Ambrosio poi quando ci sarà il regno del sud si avrà un capo di stato maggiore generale pugliese ossia Messe quindi diciamo che anche l'elemento geografico farà la sua differenza e quindi abbiamo sicuramente un cambiamento generale delle gerarchie sia militari che politiche quindi con questo Ambrosio che passa da capo di stato maggiore dell'esercito a capo di stato maggiore generale Cavallero perderà ogni incarico poi vabbè farà una sorta di parabola decrescente fino alla sua controversa morte dopo l'8 settembre dall'altra parte abbiamo un un nuovo rimpasto quello del del gennaio esco del febbraio del 43 in cui Mussolini elimina molti degli esponenti di punta del governo pensiamo a Ciano Ciano che era stato ministro degli esteri per tanti anni il genero il Delfino quello che viene definito il Delfino e viene mandato a fare l'ambasciatore presso la Santa Sede che è un degradato sostanzialmente e la cosa interessante è che Mussolini si riprende l'interim di una serie di ministeri tra cui quello degli esteri quindi è interessante anche come la dinamica militare bellica del fronte che in qualche modo risente delle sconfitte in qualche modo anche lo stesso Mussolini capisce che deve in qualche modo riequilibrare i poteri prima che in qualche modo il potere gli scivoli di mano tra l'altro tra novembre e dicembre c'è stato Mussolini è stato male ci sono stati dei tentativi più ventilati che reali di colpo di stagio lo stesso Cavallero che in qualche modo tramava che era amico di Farinacci quindi in qualche modo avevano state delle idee su trovare un qualcosa di diverso nel caso di Cavallero e Farinacci due tedescofili cercare di trovare una intesa maggiore con i tedeschi e qui emerge anche l'elemento interessante che ci porterà poi all'istituto del Gran Consiglio del Fascismo del 24 e del 25 luglio in cui si può cambiare si può cambiare qualcosa ma non necessariamente solo da una parte cioè si può cambiare pure da un'altra parte nel senso le variabili le modalità di modificazione della politica militare della politica bellica a tante a tante variabili tante opportunità diverse ma la via ufficiale ossia quella che Mussolini in qualche modo subisce perché poi alla fine la subisce perché non è lui che in qualche modo determina seppur abbia recuperato una serie di ministeri è il tentativo di trovare una via di uscita la più indolore possibile cercando di concordarla con Hitler quindi cercando di la priorità per Mussolini è sempre stata al Mediterraneo lo era nel 40 lo è a maggior ragione nel 43 che gli angloamericani sono quasi quasi alle porte di casa nella Tunisia veramente abbiamo visto un braccio di mare quindi in qualche modo la realtà è assai è assai problematica e a partire da febbraio nel mese di febbraio Ribbentrop viene a Roma viene a Roma per parlare di una serie di problemi di problemi che possono riguardare la stessa Tunisia che possono riguardare la Francia medionale che possono riguardare il rimpatrio delle ultime truppe italiane dalla Russia quindi in qualche modo si esaminano vari problemi ma sostanzialmente è sempre la diplomazia tedesca Ribbentrop che in qualche modo determina le scelte politiche quindi piano piano il problema che l'Italia può avere il desiderio di riequilibrare l'economia della guerra quindi spostarla più nel Mediterraneo quindi avere un maggior impegno tedesco naufroga giorno dopo giorno nel senso ci saranno altri altri contatti ci sarà uno scambio di lettere tra Hitler e Mussolini visto che non si possono incontrare oggi noi viviamo nel mondo del Whatsapp dell'elemento istantaneo dobbiamo capire che all'epoca anche parlarsi al telefono era un problema anche perché Hitler era sempre in giro questa è una cosa che va detta Mussolini si muoveva relativamente poco da Roma o almeno non è che seguisse il fronte anche perché il fronte era in Tunisia quindi era difficile poter raggiungere la Tunisia mentre Hitler era comunque sempre abbastanza avanzato quindi lo notiamo dalle memorie dell'ambasciatore italiano a Berlino Dino Alfieri che ha difficoltà a parlare con Hitler ha difficoltà a parlare con Ribbent perché non li trovo mai diciamo che Alfieri non è che fosse un fulmine di guerra però diciamo che non era facilitato dal fatto che tendenzialmente Hitler stava poco a Berlino e quindi in qualche modo era anche difficile ovviamente parlarsi con Mussolini vi saranno delle occasioni di incontro con tra Hitler e Mussolini quella di Classheim dei primi di aprile poi ci sarà quella di Feltre che però sarà a luglio ci arriveremo dopo in qualche modo in questi incontri che possono essere epistolari o che possono essere di persona si cerca la possibilità di trovare un punto di contatto un punto di contatto che però è impossibile perché? perché c'è un dialogo tra sordi perché sostanzialmente Hitler pone i termini sulla l'importanza l'elemento fondamentale di battere i russi Hitler è convinto che i russi siano alla frutta nel senso dice sì stanno contraattaccando c'è stata Stalingrado ma ha portato un'emorragia enorme in qualche modo il loro impegno si sta esaurendo sono una società comunque corrotta dal comunismo e qui c'è anche l'elemento di ideologia cieca nei confronti dell'altro e allo stesso tempo Hitler questa è una cosa fondamentale per capire se no non capiamo c'è un matto punto e basta sì magari era anche matto però aveva una sua logica in cui egli credeva fortissimamente che l'alleanza tra l'Unione Sovietica e gli angloamericani sarebbe crollata perché comunque c'erano delle posizioni talmente divergenti sotto l'aspetto non solo ideologico ma anche di disegno della carta geografica avrà la sua ragione soltanto purtroppo che ci sarà un momento di pace in questo senso nel senso che i problemi torneranno dopo il 45 nel senso che sicuramente aspetteranno prima di sconfiggere Hitler e poi i problemi li posticiperanno dopo però Hitler capisce perché pure lui conosce la storia sa che la storia spesso ha portato che il crollo dell'alleanza avversaria in qualche modo ricorda Re di Prussia che in qualche modo riesce a ribaltare la situazione perché una grande coalizione ha le crepe all'interno le proprie crepe e capisce che ci sono le crepe anche tra gli alleati occidentali e l'Unione Sovietica il punto è che appunto fa sempre i conti senza l'oste e non capisce ancora forse non capisce ma forse non lo vuole capire che l'Unione Sovietica è una massa enorme di uomini di mezzi di capacità e è in attacco e Kursk lo dimostrerà ancora di più e dall'altra parte Mussolini che cerca di convincere Hitler a trovare un accomodamento una tregua un qualcosa un elemento di di pacificazione tornare ai confini del 41 questo è il pallino che può però capite bene che i confini del 41 non soddisfano né Hitler né Stalin abbiamo combattuto per due anni ci siamo veramente dissanguati in tutto e per tutto per tornare ai confini del 41 cioè è folle quindi diciamo era fuori da ogni grazie di Dio a un certo punto faccio un mini passo avanti a un certo punto quando gli alleati saranno in Sicilia non mi ricordo chi dal lato italiano dirà proviamo a negoziare dato che c'è una potenza dell'asse che occupa un paese dello schieramento degli alleati gli alleati che occupano un pezzo di un paese dell'asse veniamoci incontro cioè noi che lo leggiamo oggi ci pare una cosa inconcepibile ma qualcuno lo pensava no? ma sai il discorso è il punto è quando sei stai vivendo una situazione non è ovviamente il beneficio del seno del poi certo quindi probabilmente magari era anche stata una frase buttata lì nel senso che tanto per dirne una nel senso che poi non era ovvio che nella situazione della Sicilia del luglio del 1943 la situazione sarebbe andata solo che peggio nel senso che in qualche modo magari si poteva è sempre un discorso molto lato no? diciamo cerchiamo di trovare un accomodamento perché tanto il nemico lo sapevano tutti lo sapevano tutti non lo ammettevano ma sapevano tutti che il nemico di domani era l'Unione Sovietica quindi in qualche modo vi conviene vi conviene che è un po' quello che poi accadrà dopo il 45 no? il fatto che la Germania seppur quella occidentale può divenire un baluardo contro il blocco sovietico diciamo che la storia poi si riassesta no? ovviamente con le mille contraddizioni della storia perché non è che c'è uno che ha un ideale e lo porta avanti fino alla morte sì solo Hitler potevamo portarlo avanti fino alla morte ma altre persone in qualche modo hanno la realpolitik per capire come l'evoluzione degli avvenimenti comporta la modificazione di determinate scelte quello che vale oggi può non valere domani e può valere dopo domani quindi questo è sicuramente un elemento fondamentale per andare a capire un fatto dopo l'altro ma anche nel suo complesso come c'è un'evoluzione se non ci spieghiamo che la guerra è stata scatenata per salvare la Polonia e poi nel 45 abbiamo la Polonia mozzata a Oriente ma che abbiamo fatto a fare la guerra il primo settembre del 39 se poi comunque la Polonia deve essere mozzata e sì perché nel frattempo ci sono stati sette anni che hanno cambiato il mondo e quindi è impensabile poter dire no ma torniamo alla Polonia del 39 non è assolutamente possibile in questo quindi dicevo l'elemento interessante nella modificazione ma anche nella imperturbabilità delle relazioni tra Roma e Berlino nel corso dei primi diciamo sei mesi diciamo anche sette mesi del 1943 è contraddistinta sostanzialmente da un dialogo tra sordi in cui il Mediterraneo che è il centro per quel che ci interessa volendo per il momento lasciare da parte l'Unione Sovietica perché riguarda diciamo solo per tra virgolette solo tedeschi e sovietici diciamo mettiamolo tra mille virgolette nel nel discorso del Mediterraneo in cui ci si combattono inglesi americani francesi italiani tedeschi eccetera inglesi in senso lato perché c'è tutto ovviamente l'impero quindi abbiamo un agglomerato di formazioni internazionali che in qualche modo hanno questa sorta di cul de sac in Tunisia e la prossima tappa non si sa quale sarà questi Balcani e qui poi nasce ovviamente tutta quella quella sottobosco di ipotesi di pistaggi e quant'altro su quale sarebbe stata la destinazione successiva però ci evidenzia come c'è un grosso problema un grosso problema politico di come l'Italia debba uscire dalla guerra perché ormai è palese che l'Italia debba uscire dalla guerra perché non può fare altrimenti perché la prossima la prossima tappa è quella di avere i nemici dentro casa e che ci possa essere il discorso del bagnasciuga l'idea che ci possono essere le armi segrete e tutte queste cose che vengono ripetute a livello propagandistico eccetera 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 diciamo che è ovvio che o si trova una soluzione politica alla guerra o la guerra è definitivamente persa e persa pure male come poi sarà quindi questo è un elemento interessante però che appunto in questo si nota sempre la condizione di cadetta di retroguardia che svolge l'Italia l'Italia non può fare altrimenti perché dipende dai rifornimenti tedeschi da ciò che i tedeschi offrono possono offrire concedono e qui ci sarà sempre una lotta veramente all'ultimo sangue diciamo che Fava Grossa che è il ministro della produzione bellica che ogni volta si presenta dai tedeschi allora ci avete promesso tot aerei ci avete promesso tot quintali di tonnellate di carbone ci avete promesso questo questo e questo i tedeschi sì li abbiamo promessi però ci riserviamo di consegnarveli quando ci fa comodo a noi perché perché abbiamo altre altre necessità per gli aerei eh sì noi ve li daremmo pure gli aerei il problema è che voi li usate male perché non difendete gli aeroporti esatto non difendete gli aeroporti perché poi non avete scorte tutto quello che vediamo voi lo sciupate quindi non ve lo diamo perché voi lo sciupereste poi ovviamente c'è il problema che le squadriglie degli aerei possono essere trasferite dalla Russia nel Mediterraneo tendenzialmente d'inverno perché in inverno vengono diciamo hanno problemi di rifornimenti congelamenti eccetera quindi diciamo che fino a gennaio febbraio ci può pure stare che ti mando le squadriglie ma da da marzo in poi le squadriglie tornano in Russia e quindi in qualche modo tu devi fare di necessità virtù e quindi ecco come la campagna di Tunisia che appunto ha il suo il suo clou tra marzo e e maggio vede tutte queste difficoltà politiche infrastrutturali logistiche quello che dicevamo no? la guerra si vince con i materiali si vince con la capacità di di sapere in qualche modo prevedere l'avversario e cercare in qualche modo di anticipare anche attraverso l'uso di mezzi e materiali ovviamente con una strozzatura a livello geografico con una incapacità di sostenere quello che invece viene portato dall'altra parte perché come ho detto gli Stati Uniti d'America sono una una fucina una 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 quantità industriale di materiali di rifornimenti di uomini eccetera 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 e quindi vada a sé che inevitabilmente la sacca della Tunisia si ristringe sempre di più fino ad arrivare appunto alla metà di maggio con il definitivo abbandono però questo poi però ci porta all'altra parte un motivo di orgoglio perché però poi alla fine gli italiani sono quelli che gli italiani vengono sempre etichettati come fanno nulloni come non sanno combattere eccetera eccetera però sono gli ultimi che si arrendono nel senso che in qualche modo si porta anche alto l'onore della bandiera il fatto di messe no? appunto messe viene mandata allo sbaraglio e comunque è uno che combatte fino all'ultimo fino all'ultimo giorno tant'è che viene promosso maresciallo d'Italia maresciallo d'Italia perché appunto tanto poi viene il giorno dopo viene fatto prigioniero però è anche sintomatico cioè uno pensa che i precedenti marescialli d'Italia che può essere basti che può essere cavallero furono sostanzialmente promossi per fare un dispetto a Rommel perché sennò erano subordinati a Rommel avevano un incarico gerarchico superiore ma avevano in grado inferiore quindi in qualche modo era un problema un problema di politica beh messe il grado se lo guadagna sul campo in qualche modo è uno sconfitto perché è uno sconfitto non è un po' si può dire che ha vinto è uno sconfitto ma è sconfitto con onore è uno sconfitto che comunque ha dato il massimo il massimo in quelle condizioni in cui poteva poteva operare quindi questo è un elemento di grande complessità in cui l'elemento tattico operativo si va a spiegare anche con l'elemento logistico politico delle relazioni diplomatiche appunto in cui non puoi capire la Tunisia se non capisci l'intersezione con gli altri problemi problemi appunto della Russia perché se c'è la priorità della Russia in Tunisia viene quello che avanza la Russia non è che ti posso mandare la prima scelta con i tedeschi ti mando quello che ti posso mandare perché come al solito il fronte mediterraneo è il fronte secondario e poi nasce anche poi la problematica avete citato giustamente prima i pessimi rapporti che ci sono tra Rommel e fornarni io voglio trovare un generale che andava d'accordo con Rommel questo è un altro problema che è il senso che Rommel stava antipatico a tutti un po' come stava antipatico a tutti i Patton forse sarebbero stati se avessero lavorato insieme o si scannavano pure dal con nazionale oppure sarebbero stati i migliori i migliori amici del mondo però capisci bene come capisci bene come l'elemento poi interpersonale rappresenta un po' l'elemento di grande di grande importanza anche nella gestione Messe era un personaggio che comunque aveva pure lui un caratteraccio perché non è che Messe fosse docile era uno che le cose non te le mandava a dire ma te le diceva sempre con cognizione di causa e tant'è che appunto essendo stato comandante di tedeschi in 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 Tunisia aveva la cognizione di come combattevano i tedeschi perché ci aveva combattuto in Russia perché in Russia cioè Messe in Russia si è guadagnato la croce di ferro di seconda e di prima classe e quindi visto che poi era molto civetta e se la portava al collo era ben contento di avere al collo la croce di ferro la faceva vedere dice io ho la croce di ferro mica so uno che è venuto così quindi in qualche modo aveva anche la capacità di interloquire da pari a pari con con i eh da pari a pari era superiore di grado però diciamo senza senza remore diciamo abbiamo visto che 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 Rommel diciamo usciva magari faceva diciamo ufficialmente diceva sì a Cavallero o a Bastico e poi faceva tutto il contrario invece comunque Messe aveva l'autorevolezza per essere considerato per essere apprezzato per essere obbedito perché aveva la cognizione di causa oltre al fatto che come dico sempre Messe è l'unico soldato italiano nella storia penso forse no forse nella storia mondiale che è quello che ha fatto tutti i gradi da soldato semplice da soldato semplice a marescia d'Italia tutti quanti tutti quanti tutti ufficiali tutti i gradi da ufficiali tutti i gradi è l'unico che ha fatto tutti i gradi del mondo possibile quindi è uno che le cose le ha comandate cioè uno che non è mai stato a parte quando è diventato capo del Stato Maggiore generale ma non ha mai avuto un incarico al Ministero non ha mai avuto un incarico allo Stato Maggiore è uno sempre che ha fatto per ogni grado ricoperto il comando effettivo di quel reparto e la squadra il plotone la compagnia il battaglione il reggimento la brigata la divisione il corpo d'armare eccetera eccetera quindi è un militare a tutto tondo e qui emerge anche ovviamente la dinamica di perché poi l'hanno mandato lì a fine carriera nel senso che doveva fare il prigioniero e dopo 5 mesi lo ritroviamo capo del Stato Maggiore generale e anche questo poi è sintomatico per carità è anche questione politica ovviamente a quei livelli è sostanzialmente politica però è sintomatico anche che hanno chiamato a lui hanno chiamato lui perché perché aveva una sua autorevolezza che difficilmente altri generali avrebbero certo e qui mi taccio chiarissimo allora Andrea te l'onere di chiuderci la Tunisia quindi abbiamo parlato di messe quindi direi di fare questa ultima cavalcata dal Maretta a Infidaville a Il Muto ok tra l'altro ho messo anche questa particolarità che era l'unico praticamente probabilmente l'unico generale della seconda guerra mondiale che ha combattuto un po' contro tutti perché lui ha combattuto contro i greci contro gli americani contro gli inglesi contro i francesi contro e poi combatte anche contro i tedeschi contro i sovietici quindi lui ha combattuto contro tutti quindi è veramente un personaggio spettacolare è messo poi come ci appunto come si va bene Giovanni questa particolarità appunto di essere partito come da Mesagni in Puglia da una famiglia proprio dallo stato sociale più basso perché la madre era mi sembra un calzo e la madre faceva piccoli lavori in sartoria in casa quindi praticamente erano lui a 17 anni parte volontaria proprio perché doveva togliere una bocca da sfamare alla famiglia quindi lui inizia a fare questa carriera che quello porterà a comandare la prima armata italiana sulla linea del Maret che sembra inizia la carriera che sembra un comando di grande prestigio ma è la vendetta di quelli che non lo sopportavano più a Roma lui ha detto giustamente di Cavallero ma in realtà anche Mussolini ha molti sassolini da togliersi nei confronti di 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 che ha avuto l'ardire di lamentarsi di ciò che lui gli mandava sul fronte russo ha messo quello che gli ha detto quando Mussolini decide di trasformare l'oxir che pochi sanno che appunto l'oxir è il corpo di spedizione in Russia è l'unità militare più vincente della seconda guerra mondiale italiana Mussolini talmente esaltato dalle vittorie dell'oxir decide di trasformarlo in un'armata e quindi crea l'armir da mandare e messa gli dice ma che cosa mandate altri soldati cioè a noi ci servono camion ci servono carri armati non ci servono altri soldati e Mussolini queste cose troppo franche dette in maniera evidentemente diretta pugliese come faceva Giovanni da Mesagne non le apprezza e quindi quando viene mandato via dal fronte russo poi viene dato un nuovo incarico che questo incarico appunto trappola quello in cui si sa che non c'è speranza è un viaggio di sola andata non c'è il ritorno dal comandare la prima armata e invece Messe una volta ancora dimostra di essere un grande grande comandante di uomini soprattutto un comandante che sa che cosa pensano che cosa vogliono i soldati italiani quindi si occupa anche del loro benessere negli inizi del possibile comanda talmente bene come diceva giustamente questioni politiche indubbiamente però sono gli stessi inglesi che hanno un alto apprezzamento del lavoro di Messe come comandante sotto i vari fronti della seconda guerra mondiale quindi lo vogliono come gli danno il via libero per poter andare a essere il capo di stato maggiore generale del rinato esercito del regno del sud Messe cosa fa? a parte il fatto che quando arriva la prima cosa che gli dicono non è neanche la situazione tattica è questa gli dicono tu sei qui per sostituire Rommel ma nessuno deve sapere che tu stai sostituendo Rommel perché il mondo non doveva sapere che Rommel se ne stava andando dal nord Africa per andarsi a curare e ritornare in Germania tant'è vero che poi quando il 13 maggio Montgomery gli viene portato davanti il comandante della prima armata italo-tedesca lui è convinto ancora che si tratti di Rommel e non si tratti di messe e ci marrà talmente male che neanche gli darà la mano praticamente ci vorrà il suo capo di stato maggiore che lo riporta lì e dire guarda che almeno la mano è offrirgli pranzo sto po' raccio bisogna farlo perché Montgomery era convintissimo che Rommel fosse ancora lì e soprattutto lui voleva avere la fotografia di lui che finalmente aveva trionfato sulla volpe del deserto Rommel riesce a spingere un primo attacco degli alleati sulla linea del maretto all'operazione Pugilist che era la tipico attacco che Montgomery continuava a ripetere in da Erlamein cioè un attacco frontale basato sulla fortuna di Montgomery nella battaglia del maretto è il fatto che lui ha un sin dalle battaglie di Erlamein ha un subordinato che è piuttosto insubordinato e si tratta di questo generale inglese di nascita ma che comanda il secondo corpo in questo caso è ancora una divisione la seconda divisione neozelandese il quale dovendo fare solo delle puntate esplorative sul fianco sinistro sul fianco destro degli italo tedeschi e dalla linea di Boerat e dalla linea di Oms misurata che continua a fare questi ganci nel deserto che sono quelli che poi fanno indietreggiare continuamente gli italo tedeschi in questo caso lui bypassa la linea del maretto dove loro sono stati respinti una prima volta e arriva fino a Elamma e quindi praticamente su questa sede di Elamma in località Matmata sconfigge le poche truppe che ci sono lì a protezione di queste posizioni a quel punto la prima armata italiana che pure non era mai stata la linea principale del maretto anzi l'unico momento in cui c'era stato qualche perdita di posizione era stato immediatamente ripreso con un famoso contrattacco corazzato della quindicesima divisione panze questo sul maretto è tra l'altro l'ultimo momento in cui i tedeschi possono ancora fare un contrattacco con le divisioni corazzate perché cosa è successo è successo che avevamo detto di Rommel che aveva attaccato a Elgettar Kasserin e lì aveva perso molti carri armati non solo i suoi ma anche quelli della decima divisione panze alcuni preziosissimi carri armati tigre i tigre fanno il loro esordio operativo in Tunisia sono 19 i carri armati tigre che vengono mandati in Tunisia si comportano bene ma il problema dei tigre in Tunisia è che gli stessi equipano bene come utilizzarli e soprattutto non ci sono dei mezzi che possano andarli a riprendere nel caso di rotture sul campo di battaglia sono troppo grossi anche per le piccole strade i piccoli ponti della Tunisia quindi quando un tigre rimaneva praticamente impantanato da qualche parte il tigre doveva essere abbandonato quindi molti tigre di questi 19 che vanno in Tunisia purtroppo fanno una fine di questo genere quando Rommel appunto sconfigge gli americani poi si butta contro l'ottava armata Medenine pensando con la sua quindicesima e ventunesima panza di fare un attacco che possa respingere l'ottava armata che ancora non si è sistemata con tutte le unità in realtà Lechley Park dove decodificano tutti i messaggi tedeschi con il sistema ultra hanno letto benissimo le intenzioni dei tedeschi quindi ad aspettare i carri ma tedeschi ci sono uno schieramento di cannoni contro carro di oltre 500 cannoni contro carro tra cui gli ultimi cannoni quelli più potenti 17 libri e il 70% dei corazzati tedeschi vengono distrutti o danneggiati e dovuti abbandonare lì sul campo di battaglia questo è terribile perché da questo momento in cui dopo la battaglia del Maretti i tedeschi non hanno praticamente quasi più nessuna capacità di invastire delle operazioni corazzate quindi si tratta ormai di combattere su linee consolidate difensive come sarà quella di dell'OA di Akarit ma in cui non c'è più alcuna possibilità di ottenere dei contrattacchi come erano soliti fare i tedeschi dei contrattacchi corazzati questo è molto limitativo per le forze italo-tedesche e va a incidere sulle operazioni della campagna di Tunisia gli ultimi carri sono quelli che praticamente riescono a tenere ancora a bada la prima armata inglese nel nord nel settore di Bona in quel settore lì sono quelli della decima divisione Panzer e che combatteranno intorno a Beja fino all'ultimo poi come ha detto giustamente Giovanni i tedeschi si arrendono il 12 maggio mentre gli italiani si arrendono il 13 maggio cioè il giorno successivo nella penisola di Capobond a questo punto non c'è più non c'è più alcun dubbio che la la campagna è finita c'è solamente il la voglia degli italiani tenere ancora duro perché questi meravigliosi veterani che sono quattro anni che combattono alcuni sono quattro anni che combattono praticamente nel deserto sanno benissimo che una volta caduti loro toccherà all'Italia anche se i reati il S e il SOE fanno di tutto per non far capire che il prossimo bersaglio sarà la penisola italiana la famosa l'operazione Mismith quella con faranno ritrovare un cadavere sulle coste spagnole con l'indicazione di uno sbarco in Grecia ma i veterani che combattono ancora a Capobon sanno benissimo che una volta che loro si saranno arresi a dover difendere la Sicilia e poi il continente saranno delle truppe che non hanno alcuna esperienza di combattimento saranno delle truppe delle truppe verdi green come le definiscono gli anglosassoni quindi truppe che non sono mai state testate in alcun combattimento oppure delle truppe come nel caso della divisione Armangeri in tedesca che sono state fatte a pezzi in Tunisia e poi vengono ricostruite in Sicilia ma anche in questo caso sono alcuni ufficiali che sono scampati alla campagna di Tunisia ma per il resto sono tutte reclute che arrivano dalla Germania tutti i ragazzi di 18-19 anni senza alcuna preparazione specifica a quello che dovrebbe essere poi il combattimento contro le armate anglo-americane la perdita della Tunisia è soprattutto la perdita di questo know-how per combattere che era iniziato nella prima vera del 1941 quando la riete aveva iniziato a capire come si faceva la guerra tra corrazzati e fanteria con la coordinazione tra questi due tipi di armi che gli italiani non avevano mai e poi mai sperimentato nonostante qualche pionieristico tentativo negli anni 30 del quarto reggimento Carri questo tipo di combattimento che prevedeva una perfetta integrazione tra carristi artiglieria e fanteria è una cosa che gli italiani imparano direttamente nel deserto della Libia tutta questa perdita di sarà drammatica per quello che poi sarà in questo caso lascio la parola Giulio la preparazione del primo grande sbarco che gli anglo-americani faranno insieme perché con la torcia diciamo così uno sbarco senza quasi opposizione mentre in questo caso sarà uno sbarco che prevede non solo truppe che da mezzi da sbarco vengono lanciate su delle spiagge presidiate dal nemico ma addirittura anche il lancio di paracattisti in zona di preceduta da lancio di paracattisti in zona di combattimenti quindi sono una vera e propria prova generale per quello che poi sarà il sbarco della storia dell'anno successivo certo bene allora chiudo magari con qualche dato anche per ricollegarmi al discorso che facevamo sulla lotta di materiali questo si fa riferimento per quanto riguarda l'asse ai numeri di uomini e materiali inviati per via marittima non conta quelli inviati per aereo che comunque furono abbastanza rilevanti per la campagna tunisina e dall'altro i materiali e gli uomini inviati solo per le forze alleate ad ovest quindi non include l'ottava armata quindi già questo insomma dà un'idea delle cifre delle forze sul piatto detto questo finisce la campagna di Tunisia e nelle menti di molti c'è l'idea appunto che sia l'Italia il prossimo bersaglio ora si è scritto tanto appunto dell'operazione Minsmith il quanto efficace quanto sia stato efficace o meno l'opera di deception degli alleati leggendo un po' almeno documenti memoriali da parte italiana pare insomma che tutti se l'aspettavano al massimo si potevano aspettare qualcosa in Sardegna o ma comunque tutti gli indizi specie dopo la caduta di Pantelleria no del del giugno del 43 tutti si aspettavano un po' la la che la Sicilia fosse l'obiettivo successivo infatti una un'immagine dell'isola bombardata che poi fu costretta la resa tanti hanno criticato la resa di Pantelleria ma non c'era semplicemente altro da fare in quelle condizioni sappiamo che Alfredo Guzzoni era il generale capo della sesta armata disposta alla difesa della Sicilia lui passerà tutto il mese di giugno praticamente a fare ispezioni su e giù per l'isola si rese conto che insomma non c'era non c'erano le condizioni né di forze né di difese per reggere un'invasione si lamentava la mancanza di cemento anche di bulldozer per scavare trincee anticarro insomma tutte queste cose che servono ovviamente l'Italia viveva una crisi di trasporti marittimi quindi mancavano anche i trasporti per rifornire la Sicilia anche di questi materiali sappiamo che la Sicilia poi sarà soffrirà di una penuria alimentare che li porterà quasi alla fame che verrà sanata solo dall'arrivo degli alleati sul la location dello sbarco forse c'era un'incertezza sul luogo dove poteva avvenire infatti si spiega un po' lo schieramento da una parte delle divisioni a Osta Sietta e quindicesima Panzer Granadier e invece nella parte sud orientale della Livorno dell'Ermangering e la Napoli e poi ovviamente c'erano tutte le divisioni costiere che sappiamo erano le divisioni atte alla difesa il primo primo strato di difesa contro le forze di invasione divisioni costiere che però sappiamo non essere equipaggiate all'ultimo grido e formate da uomini nelle migliori condizioni prima nel backstage queste sono due foto quella più in basso anche abbastanza famosa di soldati delle divisioni costiere nella seconda presi prigionieri dove Giovanni prima diceva giustamente in backstage faceva notare che gli elmetti sono quelli della grande guerra sono quelli della grande guerra perché c'era una penuria anche di elmetti in più erano divisioni armate con scarso armamento già le divisioni italiane lo sappiamo avevano una potenza di fuoco inferiore a quella delle coeve divisioni tedesche o alleate queste ancora peggio era calcolato che queste divisioni schierava dispiegate nella mappa si vede si vede un po' meglio divisioni che dovevano coprire dei lunghi pezzi di territorio per esempio qui la 206esima costiera che deve coprire un'area da Gela fino ad Augusta fa da sé che è un'area troppo grande per essere coperta da una divisione per di più non ha pieno organico diciamo per di più con un uomo ogni 40 metri in media nessuna mobilità perché non ne avevano e in media un pezzo controcarro ogni 3 km va da sé che queste non erano le migliori unità per fronteggiare uno sbarco c'erano poi le divisioni le divisioni regolari di cui solo la Livorno era dotata di una discreta mobilità mentre le Alte dovevano far riferimento agli automezzi di corpo d'armata Livorno che era stata armata e messa su per la mai implementata invasione di Malta e quindi queste erano un po' le forze che si ritrovarono a difendere la Sicilia cade Pantelleria a giugno nei giorni precedenti allo sbarco c'è un grosso una grossa campagna aerea alleata contro la Sicilia che porta a una grossa distruzione tra le file della regione aeronautica e della Luftwaffe gran parte dei velivoli disponibili vengono distrutti al suolo qui c'è una foto dell'aeroporto di Catania dove si intravedono due due regioni 2005 quindi tra i pochi caccia moderni che la regione aeronautica schierava quindi questa campagna aerea già dà ulteriori segnali a quale sarà l'obiettivo degli alleati ci sono gli sbarchi e poi ci sono altre vicende che magari vedremo un attimo nel dettaglio Giovanni quindi come l'invasione della Sicilia quindi l'invasione del suolo della patria è un ulteriore terremoto politico che fa da catalizzatore di tutti gli eventi politici che popoleranno nel mese di luglio sì intanto mentre stavo secondo me interessante vedendo la cartina abbiamo notato una serie di bandierine italiane e solo tre divisioni tedesche sono solo tre divisioni tedesche ma collocate al centro di tutta una serie di altre divisioni italiane quindi evidenzia come i tedeschi sono poco rappresentati ma tengono intanto lasciano fare il lavoro sporco agli italiani del primo impatto dell'eventuale sbarco e dall'altra parte tengono anche sotto controllo tutto il resto e questo sarà un elemento molto interessante da lì ai successivi due tre mesi in senso che fino all'otto settembre consigliando appunto che questa situazione si ripeterà anche appunto alla vigilia dell'otto settembre quando le poche relativamente poche divisioni tedesche si troveranno in una collocazione tale da poter essere impiegate in maniera più efficace rispetto a quelle italiane pensiamo appunto mi viene meglio ho studiato molto la situazione di Rodi in cui erano al centro e quindi in qualche modo riuscivano ma a Roma la stessa cosa e in altri con te in Albania eccetera quindi questo già è sintomatico anche di come il 10 luglio del 1943 vi fosse un atteggiamento non sempre collaborativo sospettoso nei confronti degli avvenimenti sì siamo ancora alleati però per quanto ancora chissà questo è il primo elemento la seconda considerazione tu hai parlato giustamente di Guzzoni Guzzoni che è un personaggio veramente sfitsso nel senso come i diari di Ciano lo considera uno dei suoi zimbelli preferiti cioè Guzzoni porta il parrucchino c'ha la pancera è improponibile va agli incontri con i tedeschi e lo prendono in giro quindi diciamo che un personaggio che era sicuramente fisicamente inappropriato cioè oggi lo prenderebbero in giro più di più dall'epoca però era una persona che comunque sapeva il fatto suo e la cosa curiosa che mi preme sempre dire è che in quel momento è comandante della sesta armata e si lamenta dell'impreparazione dell'elemento poco efficace del dispositivo difensivo italiano dell'Icilia e se ne lamenta con Roatta che è da poco tornato a fare il capo di stato maggiore dell'esercito ma sostanzialmente Roatta snobba Guzzoni dici arrangiati salvo pensare non tutti lo sanno che fino a due mesi prima Roatta era il comandante della sesta armata in Sicilia e si lamentava a sua volta come Guzzoni quindi diciamo che finché c'è stava Roatta si poteva lamentare poi quando è tornato a fare il capo di stato maggiore a Guzzoni dice arrangiati perché non è un problema mio quindi è interessante come lo scaricabarile e la relazione tra i generali era sempre a geometrie variabili in cui appunto come si dice a Roma a chi tocca non si ingrugna quindi in qualche modo è interessante anche definire questo aspetto all'interno di una situazione molto in evoluzione detto questo proseguendo il discorso che abbiamo fatto prima ossia sulla gradualità con la quale l'evoluzione degli avvenimenti bellici vanno a influire sulla situazione politica e ovviamente viceversa è importante e necessario inserire la figura del re perché se no non riusciamo a capire fino adesso non l'ho citato perché il re rappresenta sempre un elemento paradossalmente esterno agli avvenimenti bellici il re che tecnicamente secondo lo statuto Albertino è il capo delle forze armate è colui che detiene lo scettro di tutti i poteri il governo è il suo governo solo occasionalmente nel sistema poi che si è evoluto del sistema costituzionale italiano è un presidente del consiglio che ha una sua maggioranza parlamentare eccetera eccetera però in realtà è il re che deterrebbe il mazzo in mano il problema è che dal 40 attraverso una sorta di artifici normativi Mussolini si è appropriato del potere militare e quindi fa il bello e il cattivo tempo e il re è messo ai margini già era messo ai margini durante il ventennio per tanti motivi e viene messo ai margini anche nell'unica istituzione che gli era rimasto sia le forze armate ebbene il problema nasce dal fatto che il re sembrerebbe l'unico che può in qualche modo cacciare Mussolini perché lo può fare tecnicamente lo può fare la costituzione glielo permette il punto è che il re non si sente di farlo perché dice che sostanzialmente esistono delle istituzioni politiche che in qualche modo hanno garantito la prosecuzione del potere da parte Mussolini e quindi nei tanti abboccamenti che si vanno a sommare nel corso della primavera e all'inizio dell'estate nel 1943 si va a creare la necessità da parte del re di un presupposto un presupposto politico che sfiduci Mussolini tale da permettere al re di trovare un sostituto ovviamente questo arriveremo alla seduta del 24 e del 25 di luglio con tutto ciò che ovviamente ne consegue e in questo faccio tiro un po' l'acqua al mio mulino ai video che sto facendo in questi giorni ma diciamo per semplificare il punto nasce dal presupposto appunto che l'agato dei Mussolini è una un elemento di convergenza di più cose se no è un colpo di Stato punto e basta a parte che già io il concetto di colpo di Stato non so tanto per la quale però a parte questo il problema nasce da una convergenza di interessi militari la guerra è persa la stiamo perdendo quindi in qualche modo i vertici militari hanno il desiderio attraverso il re perché devono rendere conto il re Ambrosio come dicevamo non è un politico l'Ambrosio va dal re e gli dice che cosa dobbiamo fare il re dice dobbiamo aspettare perché non ci sono i momenti adatti dall'altra parte sono pure gli antifascisti gli antifascisti che premono dicendo beh la situazione è quella che è forse non è il caso di chiudere il rubinetto col fascismo gli stessi fascisti i gerarchi che in qualche modo prendono coraggio esatto perché appunto c'è stato l'ultimo rimpasto nel frattempo a maggio è cambiato anche il segretario del partito quindi tutta una serie di avvenimenti che in qualche modo contribuiscono a rendere possibile il fatto di cacciare Mussolini ma non perché Mussolini c'è antipatico perché Mussolini ha finito ha fallito sostanzialmente la sua guerra la sua guerra che era una guerra di conquista una guerra ideologica una guerra contro le demoprutocrazie ebraiche massoniche eccetera eccetera ci abbiamo gli angloamericani dentro casa in Sicilia oltre al fatto che il 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 20 di scusate il 18 di luglio viene pure bombardata scusate il 19 di luglio viene pure bombardata quindi in qualche modo abbiamo anche la chiusura del cerchio dove anche l'unico elemento che fino a quel momento era rimasta indeno sia Roma come centro della cristianità come tutta una serie di motivi beh pure Roma viene bombardata ovviamente gli americani lo fanno apposta nel senso che è un avvertimento è una sorta di di prova generale per capire anche l'effettiva anche perché è anticipata da un volantinaggio in cui era preannunciato questo bombardamento non è un bombardamento sì ne abbiamo ne ho parlato in questi giorni ci sono stati ahimè tanti morti quindi diciamo che non è che stiamo a giustificare ovviamente bombardamenti la guerra purtroppo è quella che è e quindi in qualche modo purtroppo i morti li fa però dico come è tutto legato a un percorso politico che va di pari passo con quello militare il discorso che facevamo e qui entriamo anche nel discorso della scelta della Sicilia rispetto alla Grecia allora noi sappiamo bene questo è un punto fondamentale per capire le dinamiche anche del Mediterraneo negli equilibri politici sappiamo come Churchill era un grande fautore dell'attacco ai Balcani perché perché attaccare i Balcani significa tagliare la strada a Stalin nei confronti di tutta la zona dell'est Europa ovviamente Churchill è molto più fine rispetto agli americani gli americani in cui sono molto semplici dobbiamo vincere la guerra sono tipo alla Patton dove è il nemico andiamo a configgere il nemico non ci interessa quanto è forte o quanto è forte Churchill che è un politico di razza Churchill ha tanti schiedri nell'armadio e tanti incarichi dentro alle spalle vorrebbe puntare sui Balcani perché ovviamente è la chiave del futuro capisce bene che la guerra oggi è contro i tedeschi domani sarà contro i sovietici gli americani che sono molto più praticoni guardano l'aspetto quotidiano intanto capiscono che è più facile nel senso che stiamo in Tunisia la Sicilia è più vicina ovviamente ovviamente qui questo è il discorso questi discorsi non è che si fanno a maggio a giugno questi li hanno fatti prima nel senso che ovviamente la decisione di attaccare la Sicilia era molto precedente già ci pensavano prima la Turisia è questione di tempo prima o poi crolla qual è il passo successivo il passo successivo è la Sicilia perché perché intanto è più breve la distanza e secondo è l'elemento fondamentale per far sganciare l'Italia dall'asse questo è l'elemento secondario in cui appunto dicevi no 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 aggiungo che ce n'è un altro non da poco ovvero prendere la Sicilia avrebbe permesso agli alleati ma in particolare all'impero britannico di riaprire la rotta del Mediterraneo quindi far cessare quel blocco che perdurava dal 10 giugno del 40 per cui tutte le navi da trasporto britanniche dovevano trasportare merci dall'impero in patria non dovevano più fare il periplo dell'Africa dovevano potevano quindi ripassare nel Mediterraneo tagliare i tempi e questo era molto importante perché gli inglesi avevano si stavano trovando in una situazione in cui il naviglio mercantile era sempre più era costretto per tempi più lunghi a fare delle traversate avere quindi la disponibilità di più naviglio data dai viaggi più corti era importante perché loro già in questo già nella primavera del 43 si trovano ad andare dagli americani col cappello in mano a chiedergli il noleggio di qualche milione di tonnellata di naviglio mercantile perché non ce la fanno più e questo nell'economia dell'alleanza ha il suo peso quindi volevo solo aggiungere questo sì sì nel senso che poi ovviamente le decisioni sono un combinato di più motivazioni questo è un elemento di grande di grande importanza sotto l'aspetto logistico perché anche perché poi facciamoci a capire sì la Sicilia bella l'Italia bella eccetera eccetera ma l'obiettivo è quello di sbarcare in Francia fra un pochetto nel senso che a Stalin non interessa nulla dell'Italia e poi a parti rovesciate a Hitler del Merale non interessa nulla e la stessa cosa non interessa nulla a Stalin nel senso che sì hai occupato la Tunisia hai occupato la Sicilia però sempre un'armata ha impegnato nel senso lui dice io ho decine di armate quindi per me la guerra il secondo fronte non può essere che la Francia quindi va da sé che la concentrazione il diciamo più si va avanti e più l'impegno deve essere sempre rivolto a un'altra parte che sia la Francia quindi anche poi tutto ciò che avviene dopo lo sbarco a Salerno lo sbarco ad Anzio lo sbarco in Francia medionale che viene posticipato e addirittura arriverà dopo lo sbarco in Normandia e sarebbe dovuto arrivare prima in teoria quindi diciamo che capiamo bene come l'Italia sì è un fronte importante ma è un fronte importante fino a quando riusciamo a far sganciare l'Italia poi dopo in qualche modo tant'è che abbiamo un forte rallentamento cioè se diciamo c'è anche a livello tempistico allora il 10 di luglio si c'è lo sbarco in Sicilia il 9 di settembre ci sarà lo sbarco a Salerno per vedere lo sbarco successivo bisogna aspettare a gennaio ad Anzio e poi avanti quindi poi ci vogliono un anno e mezzo per risalire lo stivale quindi capiamo bene pure come la dinamica degli avvenimenti portano sempre a un minore interesse per l'Italia tant'è appunto che gli anglo-americani impiegheranno un'armata a testa e quindi in qualche modo è sempre nell'economia che stiamo dicendo diciamo qui lo vediamo due armate sono due armate sono e poi saranno sempre due armate grosso modo quindi non è che ci sarà tanto di più che verrà impiegato sì a livello questa è una cosa interessante che spesso non viene detto nello sbarco nello sbarco tecnico il 10 10 luglio 1943 ci sono più divisioni che sbarcano tra quelle sbarcate che quelle paracausate dello sbarco in Normandia questo spesso non si dice come quantità di unità come prima ondata come prima ondata è più è più è più grossa più ciccia qui che il 6 giugno in Normandia però rimane così nel senso che in Normandia poi affluiscono a rotta di collo unità e mezzi e qui grossomodo sì c'è l'imbottigliamento perché poi si arriva alle varie linee appenniniche ma poi alla fine l'economia della guerra porta a interessarsi di altre cose e qui ti dicevo qui arriviamo al 24 e al 25 di luglio e poi chiudo il mio discorso è che c'è il ribaltamento dell'impegno tedesco ecco come la Germania che fino a quel momento dà col contagocce le unità in Italia perché non gli interessa anche perché hanno timore i tedeschi di lasciare imbottigliate le proprie truppe perché dicono se noi mandiamo le truppe al sud e succede un terremoto politico come succederà il 25 di luglio solo la caduta ai Mussolini l'8 settembre il ribaltamento dell'alleanza rimaniamo invischiati sono molto prudenti e dopo l'8 settembre dal partire dal 25 di luglio capiscono che la situazione va rafforzata va rafforzata iniziando dalla zona del centro dal nord e centro Italia per avere una copertura perché poi c'è pure il problema dei bombardamenti in Germania per questo poi è sempre il rovescio della medaglia più gli angloamericani riescono a salire e più c'è probabilità che campi aerei permettono un avvicinamento alla Germania metropolitana che è un problema che già già ci bombardano dall'Inghilterra figuriamoci se iniziano a bombardarci pure in Monaco di Baviera e lì è un problema cioè in qualche modo la zona meridionale deve essere preservata quindi capiamo bene come è tutto un gioco di incastri in cui l'elemento tattico operativo della campagna in Sicilia si va a combinare con motivi strategici sia da una parte che dall'altra angloamericana e dall'altra parte tedesca essenzialmente e dall'altra motivi politici in cui l'Italia in qualche modo deve uscire alla guerra però deve uscire alla guerra senza far vedere che esce dalla guerra quindi il 25 luglio la guerra continua non vi preoccupate noi saremo fedeli all'alleato germanico invece è un gioco degli inganni che poi alla fine inganna solo le truppe italiane questo è l'8 settembre poi ci torneremo che ti volevo chiedere anche di Feltre ma farei un passo indietro che non ho citato una cosa ovviamente quando si parla dello sbarco in Sicilia torniamo sul lato militare poi do la parola anche a Andrea tanti forse che hanno letto troppi libri di Trizzino o altri portano in ballo la regia marina il fatto che non sarebbe intervenuta intervenuta per contrastare lo sbarco ora qui abbiamo una chicca una scansione di una mappa la riperita all'ufficio all'archivio dell'ufficio storico della marina dove c'è stato c'è questo appunto dove si si scrive cartina presentata al duce il giorno 10 luglio e che sarebbe servita per prendere la decisione di non far intervenire la squadra da battaglia le forze navali da battaglia che in quel momento erano alla spezia la risposta diciamo è abbastanza intuitiva per uno che sa leggere una mappa la flotta il grosso della flotta era a spezia era quassù queste erano le rotte di avvicinamento all'area degli sbarchi che erano come abbiamo visto qua la rotta più plausibile era quella che passava per la costa tirrenica puntava sullo stretto di Messina e poi sarebbe dovuta piombare sul diciamo sul fronte dell'ottava armata ora questa questa navigazione avrebbe portato più di circa 24 ore di di viaggio avrebbe esposto la flotta a offesa aerea avversaria sommergibili nel terreno consumo di nafta che avevano la nafta per una sortita ma poi inevitabilmente caccia torpediniere si sarebbero dovuti fermare per rifornimento ritardi e quant'altro per poi arrivare nella zona di operazione con tre navi da battaglia due pugno di incrociatori e tra i cinque più o meno cinque incrociatori e una decina di caccia torpediniere per trovarsi di contro il doppio di navi da battaglia due portaerei decine di incrociatori centinaia di navi di scorta tra corvette caccia torpediniere e quant'altro e il potere aereo degli alleati quindi dal punto di vista militare è stata quella di non far intervenire la flotta è stata una decisione saggia sarebbe stato solo un suicidio quindi questo per mettere a tacere alcuni alcuni discorsi irrazionali venendo da Andrea lato militare prima l'abbiamo visto tra noi il materiale del regio esercito in Sicilia anche qui non è che era l'ultimo grido abbiamo visto le divisioni costiere c'erano un po' di semoventi L40 ancora c'erano i R35 di Preda Bellica che ci aveva ceduto la Germania in due battaglioni che verranno utilizzati ampiamente l'unica eccellenza forse erano i pochissimi semoventi da 9053 e poi c'era anche qualche reliquia l'ho chiamata i Fiat 3000 che erano stati adibiti a insomma miti di mitragliatrice appena mobili mi verrebbe da dire quindi questa è la situazione e sappiamo che già nelle prime ore c'è la la scarsa reazione delle divisioni costiere che però è dovuta alle scarse disponibilità capacità militari di queste unità ma ci sono già delle reazioni di gruppi mobili tra cui quelli armati di appunto con i Renault 35 e un reggimento di fanteria della divisione Livorno che intervengono nelle prime ore contro le teste di ponte alleate sul lato inglese ci sarà la divisione Napoli e altri gruppi mobili che interverranno però questi contrattacchi ovviamente si scontreranno contro un muro di bocche da fuoco e poi anche fuoco delle delle navi a largo che supporteranno le forze alleate sì innanzitutto va detto che nonostante appunto ci fosse sostanzialmente agli alti piani politici una petuta comune e quindi personaggi intelligenti e diplomatici come Alexander e Eisenhower non potevano che trovare la quadra insomma erano persone fatte apposta per smussare gli angoli e andare d'accordo con tutti quando si scende sul piano tattico invece ci sono due personaggi come Montgomery e Patton che invece sono fatti proprio per non andare d'accordo totalmente e bisogna tenere presente appunto le personalità di questi due generali per capire come si dipana poi la campagna di Sicilia già il fatto stesso che si è dato il pallino a Montgomery sulla decisione finale di come e dove sbarcare toglie molto del mordente che Patton voleva dare agli sbarchi perché Patton avrebbe voluto sbarcare molto più vicino ad esempio a Palermo mentre gli inglesi si occupavano della parte orientale dell'isola mentre si sceglie di fare tutto sommato un'operazione anfibia in cui gli americani non devono sostanzialmente proteggere gli inglesi quindi gli inglesi sparcono nella zona immediatamente a sud di Siracusa e gli americani invece sbarcano da Licata fino a Gela più o meno e gli americani non devono fare altro che contenere le forze tedesche ed evitare che gravitino troppo sullo sbarco inglese sbarco inglese che deve essere quello che deve dare poi il là a tutta la campagna cioè gli inglesi sono nel settore che poi deve portare direttamente a Messina che deve essere il punto finale che deve essere raggiunto perché è la parte più vicina all'Italia la parte più vicina dello stretto tra Sicilia e la Calabria quindi è l'obiettivo finale da raggiungere Patton non è un piano che apprezza non è un piano che lui ritiene degno delle sue qualità militari tant'è vero che fin dall'inizio praticamente gli americani diciamo che faranno più o meno quello che gli pare nel senso che non si attengono strettamente al punto che prevedeva un avanzato degli americani verso Palermo e avranno invece un avanzato che dividerà le sue truppe in due parti una parte andranno appunto verso Palermo con la terza divisione di fanteria ma le altre due divisioni la prima divisione di fanteria punteranno dritti attraverso la prima divisione dritto per dritto per arrivare poi direttamente nella parte nord della Sicilia sulla strada costiera che da Palermo va a Messina e dopodiché gli stessi americani faranno quella che poi verrà chiamata come la la corsa per Messina il piano prevede che prima del dello sbarco delle unità di fanteria che come avete detto voi sono 160.000 uomini sono tantissimi quindi sono molti di più dello sbarco del D-Day sbarchino delle unità di avio dei paracautisti da una parte degli inglesi c'è la prima divisione aviotrasportata degli inglesi Red Devils dalla parte degli americani viene la quesima divisione aviotrasportata purtroppo qui viene fuori appunto l'inesperienza dei comandi anglo-americani nel fare questo tipo di operazioni anfibie ed aere il maltempo ha la peggio diciamo su su questa operazione perché nei giorni immediatamente quelli dell'8 e il 9 di luglio il mare era stato molto mosso c'era stata tempesta e si era decisi di partire affrontando la coda di questo maltempo pur di essere presenti al primo giorno di mare perfetto per uno sbarco che era quello del 10 insomma delle ore notturne tra il 9 e il 10 di luglio questo portò non solo i soldati che erano sulle navi a soffrire di mal di mare con tutte le conseguenze appunto immaginare addirittura Rick Atkinson dice nel suo libro Un esercito all'alba che ci fanno dei soldati che a causa delle alte onde caddero fuori dalle navi mentre erano in navigazione ma la cosa più scomodente fu il fatto che gli aerei soprattutto gli aerei che trasportavano degli alianti quindi quelli che portavano dei materiali tipo le jeep insomma negli alianti per colpa del vento molto forte andarono sparpagliati su una zona alcune addirittura finirono a 70-80 km di distanza dal luogo dove dovevano atterrare quindi fu poi difficile per i soldati dell'82esima radunarsi nei punti nelle landing zone che erano state affibbiate la stessa cosa capitò ma è misura minore agli inglesi della prima divisione non solo ma siccome poi nei giorni immediatamente successivi si decise di inviare altre truppe aviotrasportate in soccorso alle operazioni di entrata nel territorio di avanzata questi altri aerei siccome non erano stati segnalati per tempo all'enorme flotta che era stanziata di fronte alle coste della Sicilia molti di questi aerei furono colpiti dall'antiaerea e molti furono colpiti mi pare che addirittura 23 furono abbattuti di questi che altri erano dei C3 degli aerei da trasporto e precipitarono con tutti i loro equipaggi quindi insomma da un punto di vista dell'impiego dei paracadutisti non fu un esordio memorabile anche se poi in realtà sia i paracadutisti inglesi per il Devis ad esempio nella battaglia del Ponte di Primo o i paracadutisti americani nella zona di Montelupo mi pare raggiunsero più o meno gli obiettivi che gli erano stati indicati di raggiungere però fu un prezioso insegnamento che servì tantissimo poi alla centunesima all'ottantaduesima alla stessa prima divisione inglese per i lanci che servono stati nella notte tra il 5 e il 6 giugno del 1944 con tutti quegli accorgimenti che poi ebbero in Normandia i segnali di riconoscimento sonori luminosi tutte cose che mancavano totalmente in questi lanci che ci erano stati fatti invece sì è vero che Sicilia aveva un'unità sì sì è vero io leggevo che nei gruppi mobili c'erano dei gruppi di soldati che si spostavano leggevo di un contrattacco dove 500 uomini vennero trasportati nella zona di Siracusa con i camion e un'altri 150 uomini seguivano dietro in bicicletta per andare oggi sarebbero col monopattino oggi sarebbero col monopattino esatto esatto sì sì c'erano proprio pattuglie mobili in bicicletta in funzione antiparacadutista che venivano distaccate dalle unità costiere oppure dalla milizia da altre unità della milizia per fare proprio questo lavoro di continuo movimento per andare a controllare eventuali lanci di paracadutisti queste unità c'erano queste pattuglie erano poi squadre insomma dei 7-8 uomini poi dovevano dare l'allarme ecco dare l'allarme in mancanza di radio perché non avevano la radio queste attitudini come unica cosa di richiamo avevano dei fischietti dei fischietti oppure una rapida pedalata fino al più vicino telefono o unità che potesse avere una radiotrasmittente il che non era non garantiva perché magari con i bombardamenti alleati si erano interrotte le linee telefoniche quindi tanti altri problemi logistici e di comunicazione esatto comunque questa era più o meno la qualità che si poteva mettere in campo in quel momento da parte delle unità costiere unità costiere che comunque poi ad esempio come nel caso della 206esima si batterono fino alla possibilità che avevano che era una possibilità molto ridotta molto limitata ma comunque combatterono fino alla fine fino all'esaurimento delle munizioni fino a quando interi postazioni furono eliminate dal fuoco dei soprattutto dal fuoco delle unità navali l'altro problema che venne fuori immediatamente dal primo giorno di combattimento fu che nonostante fossero alleati non c'era alcun coordinamento sul terreno tra le unità tedesche e le unità italiane quindi nel caso che tu dicevi prima il famoso contrattacco della Livorno che poi fu un contrattacco portato da un battaglione corrazzato appunto quello di questi R35 e due battaglioni il primo del 34esimo del 34esimo reggimento il primo del 33esimo reggimento non ci fu coordinamento per nulla con la divisione Gehring che era la divisione la Falschme Jäger Panzer Division Gehring che era diciamo così un nome altisonante doveva essere unità d'élite dell'esercito tedesco in realtà era semplicemente unità che veniva ricostruita in Sicilia sui resti del comando della divisione Gehring perché poi tutti gli altri soldati erano delle repliche che arrivavano dalla Germania il rimanente delle forze tedesche che erano in Sicilia era basato su due divisioni di Panzer Grenadier la nuovesima divisione di Panzer Grenadier ed era effettivamente una divisione organica che discendeva dalla 29esima divisione di Panteria e che era qualche anno che combattono insieme l'altra la quindicesima divisione di Panzer Grenadier era un'unità che era stata creata in Sicilia direttamente sul posto era un'unità che era stata creata sulla base di un reggimento così di soldati tedeschi che facevano unità di servizio di guarnigione in Sicilia la quale erano state pian piano aggiunte unità un battaglione di 88 antiaereo un battaglione anticarro un altro battaglione di fanti che erano ospedalizzati in Sicilia reduci dalla campagna di Tunisia e l'uomo che aveva messo insieme tutte queste unità fino a creare dal nulla un'intera divisione di Panzer Grenadier che poi si battì molto bene durante la campagna di Sicilia era un colonnello tedesco con gusti molto eccentrici ma che era una capacità di comando straordinaria stiamo parlando di Hans Gunther Bade che poi sarà anche il protagonista di un capolavoro tattico cioè l'operazione Lergang quell'operazione che permise di trasportare da Messina in Calabria praticamente l'intero corpo d'armata tedesco presente in un capolavoro tattico gli stessi alleati ammisero di essere stato un vero e proprio colpo di magia veramente in questo colonnello questo colonnello che era famoso per delle eccentricità era un uomo che gli piaceva andare in giro con una sorta di kilt scozzese che lui teneva fermo con un grosso revolver ogni tanto gli portava anche una spada tipo uno spadone Claymore scozzese anche quello in battaglia ed era uno dei più famosi cavallerizi del mondo aveva vinto decine di gare di salto ad ostacoli prima della guerra e poi era stato un ottimo comandante di unità prima di cavalleria poi di unità di esplorazione in motocicletta e panze poi era stato trasferito in Nord Africa aveva comandato il 115esimo reggimento Schutzen della 15esima divisione panzer dove si era distinto nelle prime due battaglie di El Alamein dove poi era stato ferito ed era stato mandato come ufficiale di collegamento tedesco al comando supremo a Roma mentre era lì per svolgere questo conno perché lui parlava tra le varie lingue che parlava parlava un italiano perfetto e quindi era stato sceso proprio per questo motivo lui era stato comandato in Sicilia e dal nulla aveva creato un'intera divisione con questa divisione i tedeschi riescono non solo a fermare l'avanzata degli inglesi ma anche a fermare l'avanzata degli americani e se si pensa che la parte ovviamente occidentale dell'isola quella appunto per intenderci di Palermo cade nel giro di quattro giorni cioè gli americani da Gela a Palermo ci mettono quattro giorni ad arrivare e da Gela gli americani ce ne mettono trentatré che sono molti di più perché volevo dare un po' il timing allora il dieci c'è lo sbarco l'undici ci sono i contrattacchi falliti i contrattacchi si realizza che non si possono ributtare a mare il diciotto luglio questa blu è la linea il diciassette cade al grigento e poi inizia il ripiegamento delle divisioni nella parte occidentale verso la parte orientale e Palermo cadrà tra il 22 e il 23 luglio esatto e dicevo appunto prima che la terza divisione americana da quella linea tu dicevi del diciotto ci mette semente quattro giorni per arrivare a Palermo praticamente quasi non combattendo come una sorta di parata con i siciliani che la festeggiano lungo la strada la stessa cosa non si può dire per gli inglesi che invece devono combattere linea dopo linea fiume dopo fiume vallata dopo vallata per cercare di arrivare prima a Catania dove loro i tedeschi ponono questa linea difensiva che si va sostanzialmente sull'Etna sui contraforti dell'Etna poi passando per Troina appunto andando su mi sembra che si chiamasse la linea San Fratello e poi combattendo lungo questi contraforti appunto i tedeschi grazie alle armi che hanno a disposizione ricordiamoci mentre in Tunisia non li avevano saputi utilizzare in Sicilia i cari tigri li sanno utilizzare e questi cari tigri diventano un po' l'anima della difesa corazzata tedesca resistendo su linee di resistenza avanzate e poi ritirandosi molto lentamente utilizzando quella che poi diventerà nel corso della campagna d'Italia la tattica fondamentale dei panzagrenali tedeschi di suddividere piccoli centri di fuoco basati su squadre di 7-8 uomini squadre che avevano un potere di fuoco molto alto perché erano basate sostanzialmente su un MG42 e su soldati che portavano con loro armi anticarro come poteva essere il Panzerfaust cioè questa arma individuale contro carro queste squadre che appunto avevano un potere di fuoco molto alto colpivano nascondendosi in un semplice fossato delle foxholes o nascondendosi dietro un casolare colpivano le unità avanzate inglesi poi si ritiravano rapidamente gli inglesi che utilizzavano il metodo Montgomery quello cioè entriamo in contatto con il nemico chiamiamo l'aviazione dopo che è passata l'aviazione facciamo bombardare l'artiglieria poi andiamo avanti se possibile con i carri armati oppure con la fanteria poi se c'è ancora della resistenza ricominciamo da capo questo ciclo quindi capisci bene che è un'avanzata piuttosto lenta e sarà lo stesso sistema che utilizzeranno poi nella risalita di tutto lo stivale italiano il problema dello stivale italiano è un problema che geograficamente mal si addice a degli eserciti pieni di carri armati come erano quelli alleati l'italia è un paese pieno di vallate pieno di fiumi pieno di piccoli ponti dove mal sottollerati i grossi pesi di carri armati pesanti o di semoventi di artiglieria quindi è un paese che in cui il difensore è indubbiamente avvantaggiato nel combattimento e gli alleati questa cosa la imparano decisamente sulla loro paese paradossalmente questa cosa li mette a tal punto di cattivo umore il fatto di trovare questa resistenza che loro stessi non pensavano così violenta perché le unità tedesche sono veramente poche da America che incredibilmente i primi massacri di addirittura anche di civili oltre che di militari dell'intera campagna in Italia non sono fatti dai tedeschi ma vengono fatti dagli alleati in particolare dalla 45esima divisione di fanteria americana che si macchierà di diversi uccisioni tra cui anche alcuni civili tra cui l'uccisione di un podestà del proprio figlio che si erano posti a delle requisizioni degli americani e poi con i massacri di Biscari in cui c'è questo capitano Compton questo sergente West che ne combinano di cotte di crude massacrando decine di prigionieri italiani che si erano già consegnati tutto questo è avuto al fatto di questo famoso discorso che agli uomini della 45esima divisione sulla nave che li portava in Sicilia Patton gli disse la 45esima divisione era una divisione che non aveva combattuto in Tunisia era una divisione verde era una divisione che era ancora pronta e aveva bisogno che diventasse invece una divisione di leoni aveva bisogno che diventasse una divisione che sbranasse gli italo-tedeschi e quindi Patton ha fatto questo discorso dicendo voi dovete ucciderli ucciderli sparare sparare quando se loro si arrendano dopo che li avete sparati se si sono arresi che sono troppo vicini a voi continuate a uccidete li sparateli anche se si sono arresi qualcuno di questi soldati prese alla lettera fin troppo alla lettera queste raccomandazioni di Patton tra cui questo capitano Compton il quale quando assaltò questo campo di aviazione difeso da questo battaglione di avieri a un certo punto gli avieri si difendono da un bunker però si alzano la bandiera bianca escono fuori questa ventina di soldati italiani questo capitano li fa ammazzare immediatamente il capitano Compton comunque se la caverà senza nessun mito fondamentalmente è una disposizione che mi aveva dato già che lui non subì mai nulla di disciplinare per questo motivo lui disse che aveva fatto questo discorso per infiammare gli animi dei soldati non l'aveva detto per fargli uccidere veramente questi prigionieri nel caso del sergente West invece fu una cosa un po' più terribile perché questi italiani si erano arresi da un pezzo gli erano stati affidati per essere portati nelle retrovie e portati verso le zone di concentramento dei prigionieri e lui a un certo punto invece li fa schierare su due file con una mitragliettrice li ammazza tutti e 50 nel caso di questo sergente invece il sergente fu mandato davanti a una corte marziale perché un tenente colonnello cappellano della 45esima divisione era venuto a sapere di quel che era successo fu lui che fece mandare questo sergente davanti alla corte marziale questo sergente passò tipo mi sembra un anno in carcere militare fu degradato ma poi finì la guerra come soldato semplice continuando a combattere sempre nelle fila della 45esima divisione questo per dire i paradossi poi dopo le aia di stragi che invece abbiamo in Italia nel corso della campagna sono dovute ai tedeschi nel corso della dolorizzata per poi arrivare ai veri propri massacchi dagli negozi che sono veramente terrificanti allora volevo dire due cose a corollario per integrare quello che hai detto sul lato militare e poi magari ci avviamo verso la conclusione della campagna ridando poi la parola a Giovanni abbiamo parlato dell'intervento della divisione Livorno nelle giornate del 10 e dell'11 e dei famosi carri di predabellica c'è appunto il primissimo contrattacco già nella mattina del 10 di questa colonna del gruppo mobile che va all'attacco dei ranger che avevano occupato Gela discendono la strada vengono martellati dal fuoco delle navi due carri riescono ad entrare nell'abitato di Gela seminando il panico tra i ranger che si adoperanno bene e meglio per neutralizzare tra l'altro in un caso utilizzeranno un pezzo da 47 italiano abbandonato lì contro questi carri francesi di predabelli che utilizzano dagli italiani quindi una bella situazione e nulla già alle 10 di mattina il contrattacco viene struncato detto quello poi si Andrea ha ricordato l'avanzata nella parte occidentale degli americani lo stalemate diciamo nella parte orientale nel settore dell'ottava armata e poi la stabilizzazione del fronte nella Sicilia centrale centro orientale pendici dell'Etna fino all'operazione dell'airgang quindi l'evacuazione del di tutto cioè di quasi del buona parte delle delle forze tedesche anche comunque di un discreto quantitativo di italiani mi pare ora vado a memoria circa 60.000 uomini pezzi di artiglieria pochi veicoli e nessun carro armato italiano detto questo nel frattempo la campagna si conclude il 17 di agosto qui vediamo appunto abbiamo detto Palermo cade il 22 il 3 agosto questa verde è la linea del fronte nel mezzo però c'è il 25 luglio quindi c'è il terremoto politico a Roma che prima del 25 luglio poi do la parola a te Giovanni c'è anche l'incontro di Feltre che è diciamo l'ultima chance che ha Mussolini di perorare la causa italiana dell'uscita dalla guerra di fronte a Itel o di ricevere degli aiuti le cose non andranno molto bene ci sarà il bombardamento di Roma e poi arriveremo al 25 luglio sì il 19 c'è l'incontro di Feltre un incontro voluto sia da Hitler che da Mussolini per in qualche modo aggiornarsi rispetto all'ultima volta che si erano visti appunto ad aprile la situazione è cambiata ancora di più nel senso che la Tunisia è persa gli anglo-americani sono in Sicilia e quindi in qualche modo c'è sempre questa sorta di dialogo tra sordi in cui da una parte gli italiani nello specifico Mussolini ma c'è anche un incontro all'atere tra Ambrosio e Keitel sotto l'aspetto meramente militare poi anche tra Bastianini e Ribbentrop quindi un incontro a tutto tondo delle varie gerarchie politiche diplomatiche e militari che però non evidenzia grosse novità nel senso che i tedeschi rimangono fissi ai loro obiettivi appunto stanno nel mezzo di Kunsk quindi diciamo che sono in altre faccende affaccendati la realtà della Sicilia è quella che è probabilmente è data già per persa nel breve periodo non ci si aspetta probabilmente una defenestrazione di Mussolini da lì a pochi giorni e quindi in qualche modo possiamo dire che fino al 25 luglio non cambia molto sotto l'aspetto della politica generale sotto l'aspetto della politica italiana invece cambierà molto perché sappiamo che nel frattempo è stato convocato il Gran Consiglio del Fascismo un Gran Consiglio del Fascismo che non si riuniva dal dicembre del 39 quindi questo è anche indicativo di quanto valore Mussolini avesse dato negli ultimi anni al Gran Consiglio cioè il Gran Consiglio era stato l'ultima volta convocato nel periodo della non belligeranza per capirci quant'acqua era passata sotto i ponti e molto probabilmente non l'aveva non l'aveva convocato proprio perché non si fidava di alcuni esponenti c'era sarebbe stato un incontro a Rodi all'inizio del 40 tra i tre supesti di Quadrunghi all'epoca era ancora vivo Balbo Balbo De Bono e De Vecchi quindi in qualche modo Mussolini non è che si fidasse molto dell'occasione dei gerarchi almeno i più incalliti di stare seduti tutti intorno a un tavolo e qui arriva come si dice la resa dei conti con i tre ordini del giorno quello di Grandi più più distruttivo per diciamo a livello formale non cambiano l'uno con l'altro i tre i tre ordini del giorno sono quello di Grandi quello di Farinacci che è molto più filo tedesco tant'è che nel discorso non cita il re nel discorso non cita il re e quello di Scorsa che dovrebbe essere quello del partito quello più vicino a Mussolini in realtà verrà votato solo quello di Grandi perché era il primo ad essere stato presentato e quindi il primo che venne votato ottenne subito una maggioranza e di conseguenza gli altri non vennero per nulla messi a votazione quindi sostanzialmente si conclude il regime lo dice lo stesso Mussolini quando chiude i lavori in realtà l'ordine del giorno e grandi lascia intendere molto più di quello che c'è scritto nel senso sostanzialmente dice chiediamo la restituzione dei poteri al sovrano la nomina dei tre ministeri dei tre ministri militari e in qualche modo cercare di risistemare l'aspetto militare della politica italiana richiamo all'articolo 5 dello statuto sì esatto nel senso che ripristinare l'ordine costituzionale affinché il re possa gestire la guerra nel miglior modo in realtà poi questo è là per l'indomani la convocazione tra l'altro in realtà si sarebbero dovuti vedere lunedì 26 perché lunedì era il giorno di convocazione e Mussolini che azzardando perché Mussolini alla fine è convinto che questo voto non sia vincolante di riuscire ancora una volta a rimescolare le carte a convincere il re che si può fare un rimpasto e si può proseguire con con un governo Mussolini lui si fida del re ancora a questo punto si fida non può fare altrimenti nel senso che in quelle condizioni si deve fidare dal suo punto di vista si deve fidare per forza che non ha alternative è convinto probabilmente è convinto che lui sia ancora l'unico uomo che può portare avanti la guerra è l'unico uomo che in qualche modo ha la la stima di Hitler e seppur Hitler non gli dà non gli dà retta e comunque lo ascolta per capirci Hitler avrà sempre stima di Mussolini anche l'ultimo giorno anche durante il periodo della Repubblica Sociale Italiana quando Mussolini sarà un cadavere politico Hitler avrà sempre una buona parola e tra se deve scegliere tra Mussolini e uno che la pensa contro Mussolini andrà sempre contro quello che pensa contro Mussolini difenderà sempre Mussolini quindi questo sarà un'amicizia diciamo sincera ecco diciamo seppur i personaggi sono quelli che sono quindi Mussolini è convinto perché è orgoglioso e allo stesso tempo ha una speranza però però in cuor suo in cuor suo questo è l'elemento contraddittorio non si dispiace di come stanno andando le cose perché comunque è stanco dopo pochi giorni avrebbe compiuto 60 anni e quindi e quindi in qualche modo infatti quest'anno si 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 c'è l'ottantesimo anniversario di questi eventi ma anche il il cento quarantesimo compleanno dei Mussolini per chi è nostalgico quindi lo ricordo pure i nostalgici se ci fossero i che ci ascoltano non ci interessa ma come come battuta a parte i scherzi qui diciamo che sta alla vigilia dei 60 anni e diciamo che è un po' stanco pure di di tutta questa situazione non sta bene in salute non è che regge tanto allo stress che ha accumulato negli ultimi tempi quindi diciamo ci spera come ho detto stamattina nella diretta di stamattina ho detto se il il re gli conferma l'incarico gli fa un favore se glielo toglie gliene fa due quindi diciamo che non sa dalle due cose però diciamo che ci crede ci crede perché è convinto ancora che più che altro per orgoglio per orgoglio suo che lui è ancora il detentore del potere poi che poi non lo sappia usare o non è più capace di usarlo e quindi è consapevole che per il bene del paese dovrebbe passare la mano questo è un altro è un altro discorso e ovviamente poi dal 25 luglio in poi si apre una nuova pagina con la situazione dei 45 giorni i batogliani con tutti gli elementi contraddittori con le trattative con i sotterfuggi con altri incontri perché ci sarà l'incontro l'incontro anzi due incontri l'incontro a Tarvisio e quello a a Casalecchio del Reno in cui ci saranno appunto degli estremi tentativi con i tedeschi ma in realtà sono dei tentativi quello che si poteva fare si doveva fare a Feltre quello che non si è fatto e quindi diciamo il governo il governo Badoglio è incamminato verso altre prospettive ma perché non c'è alternativa cioè non c'è alternativa all'uscita dalla guerra questo è senza dubbio e poi e poi scusa Giovanni c'è anche il tema del qualcuno ha chiamato il tradimento tedesco cioè sono forse i tedeschi con il loro comportamento il loro aver già pianificato da tempo no l'operazione Larico non fidarsi dell'Italia non capendo il punto di vista dell'Italia che già il 26 luglio iniziano a penetrare in Italia dalle valiche alpini creando insomma un po' di tensione e poi mettendo anche lì il governo italiano in una situazione per cui devono trattare già con gli alleati perché c'è il bisogno di trattare per portare fuori l'Italia dalla guerra in più ci sono i tedeschi che sembrano voler invadere il paese quindi una doppia invasione ma guarda questo senza dubbio io quando si parla di tradimento italiano sono sempre molto molto restio nel senso che allora il discorso è questo le alleanze le alleanze seppur quelle vincolanti tra l'altro per paradosso il patto d'acciaio era un patto che legava non l'Italia con la Germania ma legava il fascismo con il nazismo quindi tecnicamente una volta che è caduto il fascismo l'Italia era libera dall'alleanza paradossalmente a livello proprio a ricordi di trattato quindi in qualche modo non si era più vincolati ma a parte questo elemento diciamo di cavillo giuridico che ovviamente non regge sotto l'aspetto pratico il problema come dici tu che il tradimento della Germania ma non è neanche che bisogna aspettare il 26 di luglio il tradimento della Germania c'è sempre stato per il semplice motivo che la Germania ha sempre fatto i propri comodi dell'alleanza cioè l'alleanza è stata sempre un'alleanza funzionale intesa dai tedeschi per gli interessi tedeschi quindi diciamo che quando sento che l'Italia viene accusata di tradimento io vorrei ricordare che nel il 23 di agosto del 39 i tedeschi hanno fermato il patto Ribbentrop-Molotov di non aggressione e dopo neanche due anni hanno attaccato l'Unione Sovietica quindi diciamo che prendere morale dai tedeschi diciamo lascia un po' il tempo che trova nel senso che ovviamente i trattati hanno la loro valenza nel momento in cui sono firmati forse già il giorno dopo già ad inchiostro secco già non hanno più lo stesso valore quindi andare a prendere chi ha tradito chi è un esercizio secondo me futile nel senso che l'Italia in quella situazione aveva il diritto dovere di uscire dalla guerra perché la guerra era insostenibile se la Germania avesse voluto aiutare l'Italia nella prosecuzione della guerra avrebbe potuto fare delle scelte diverse che non ha fatto per i suoi interessi perché aveva come priorità il fronte orientale rispetto alla salvezza dell'Italia e quindi ha fatto una scelta però diciamo che va da sé che una volta che si è chiusa la campagna di Tunisia era quasi ovvio come abbiamo detto che il fronte sarebbe comunque arrivato nella zona d'Italia che potesse essere la Sicilia la Sardegna e che ciò avrebbe comportato un terremoto politico all'interno del paese con un paese stanco con un paese afflitto con un'opinione pubblica comunque esasperata dalle sconfitte da tutte le situazioni di patimento eccetera quindi va da sé che i tedeschi avevano già previsto e già era tutto calcolato del possibile diciamo un possibile una possibile occupazione poi chiamiamola come ci pare occupazione aiuto come ti pare però il discorso è per i tedeschi un'eventuale uscita dalla guerra dell'Italia comportava essere scoperti sul fianco meridionale che in quel momento non era auspicabile quindi in qualche modo bisognava provvedere solo uno sciocco come poteva essere l'entourage di Badoglio potevano credere che una volta terminato l'armistizio i tedeschi si sarebbero arretrati ordinatamente obbedientemente perché l'Italia uscìva dalla guerra ma non stava ne c'era né in terra i tedeschi avrebbero venduto cara la pelle come hanno venduto cara la pelle dall'8 dicembre dall'8 settembre e sera fino al 30 al 31 di aprile primo maggio del 45 quindi in questo senso è ovvio che ognuno fa il proprio mestiere i tedeschi fanno i tedeschi con tutto quello che ne concerne i tedeschi nazisti peggio mi sento quindi andare a dire ma no sei tu il traditore chi c'ha le corna che è più è un esercizio futile in cui staremo a parlare fino a domani e nessuno avrebbe la vittoria in tasca perché è un elemento parallelo in cui appunto ognuno si faceva gli affari propri perché era nella natura delle cose senza recriminazione poi ovviamente i tedeschi si sono macchiati di reati e di crimini ben peggiori rispetto a quello di invadere l'Italia però quello è un altro discorso che ovviamente esula dall'aspetto meramente militare operativo diventa una cosa proprio di crimine bene Andrea non so se diciamo che siamo alla fine se battuta conclusiva se vuoi e poi ci avviamo io volevo solamente dire quest'altra cosa che molti non lo ricordano ma ci fu anche la prova generale di Anzio in Sicilia cioè lo sbarco di Brolo in cui praticamente questo battaglione che fu gli americani non riuscivano a sbloccare questa linea per cui i tedeschi tenevano duro e perché dovevano dar tempo all'operazione Lergang di dar modo alle varie unità di passare in continente patto a un certo punto desideroso di vincere questa gara per arrivare a Messina decide ma se noi gli piazziamo facciamo sbarcare un battaglione nel paesino di Brolo loro si spaventano e noi possiamo il fronte cede e noi possiamo avanzare tranquillamente in realtà succede esattamente quello che poi succederà ad Anzio nei mesi del 44 cioè questo battaglione sbarca e poi si ferma lì praticamente come la famosa arena la famosa balena spiaggiata di Cerce si fermano lì un continuo conflitto a fuoco con i tedeschi i tedeschi riescono a cinturarli praticamente e hanno tutto il tempo con tutta tranquillità di poter retrocedere sempre tenendo fermo questo battaglione fermo lì fino a quando poi arriva quindi è uno sbarco come poi si rivelerà essere quello quello di Anzio quindi evidentemente quest'idea di fare questi sbarchi tattici solo per cercare di far crollare il fronte come poi sarà quello di Anzio per far crollare la linea Gustav in realtà non hanno mai successo qui il comando vabbè era dato a un semplice tenente colonnello che comandava questo battaglione il quale era un battaglione di truppe abbastanza inesperte e lui non gli erano stati dati degli ordini precisi lui doveva semplicemente sbarcare e impegnare il più presto possibile le forze tedesche per fargli capire che gli americani stavano sbarcando nel caso di Anzio invece Clark proprio lì cominerà la frittata più grossa di tutta la storia forse tutta la seconda guerra mondiale fermandosi con tra lui e Roma a un semplice battaglione di panzergono tedeschi e nulla che poteva fermare un intero corpo d'armata che era appena sbarcato ma lui voleva attendere i calibri dell'artiglieria pesante che lui ha detto non faceva niente ecco questa era la cosa che mi prima di dire perché la Sicilia è una prova generale di tante cose poi abbiamo parlato del D-Day ma abbiamo parlato anche in Sicilia vengono utilizzati anche i comandosi inglesi in dei ruoli che poi saranno dei ruoli che verranno utilizzati anche nello sbarco di Salerno ad esempio quindi un ruolo più di fanteria d'elite più che di ride veri e propri la Sicilia è un grande laboratorio è un laboratorio per i tedeschi che capiscono che su linee successive possono ritirarsi e fermare gli alleati che avanzano con troppa cautela per cui Rommel ad esempio aveva deciso che in Italia si poteva resistere solo sulla linea gotica e lui lo decide nell'estate del 43 Kessarine che è il comandante in capo dice no secondo me possiamo resistere anche su varie linee di difesa successive ed è quello che poi Kessarine farà a partire dalla linea Gustav poi tutte le altre linee una a una fermeranno la risalita degli alleati quindi la Sicilia come diciamo così non solo come momento evento politico come Giovanni giustamente ha fatto notare momento scatenante del 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 italiani ma è anche un momento di grande studio per chi vuole studiare queste cose un momento di laboratorio militare per capire come sarà poi anche la guerra sull'anfibia e quell'aeronavale l'Italia è questo paese meraviglioso che noi associamo sempre a pizza pace mandolino belle donne e bel canto in realtà noi siamo da sempre il laboratorio della guerra dalle guerre d'Italia con la rivoluzione militare del sedicesimo secolo fino ad arrivare alla seconda guerra mondiale questa è una cosa che dovremmo ricordare un po' più spesso assolutamente tra l'altro a conclusione mi verrebbe da dire due cose noi abbiamo parlato abbiamo cercato di condensare stasera due grossi argomenti la Tunisia e la Sicilia e di come queste due campagne portano all'uscita la crisi del regime all'uscita dell'Italia dalla guerra o meglio all'uscita dal patto con la Germania secondo me sono anche due campagne che non vengono molto approfondite perché per il Nord Africa si parla di Al-Alamain si parla di Rommel prima di Al-Alamain e la Tunisia forse viene poco approfondita la Sicilia soffre magari di Overlord del D-Day e anche qui non viene approfondita troppo mi verrebbe da dire insomma io spero che stasera con le dovute semplificazioni del caso perché il tempo è tiranno meno di tre ore non si può fare chissà che però spero che siamo riusciti a dare un quadro a contestualizzare tutti questi eventi che accadono nello spazio di 7-8 mesi che almeno per la seconda guerra mondiale per la seconda guerra mondiale dell'Italia sono estremamente fondamentali per una copertura molto fitta degli eventi delle vicende politico-militari di quest'estate del 43 vi invito a guardare i video di Giovanni molti video di Giovanni che ha realizzato in questi mesi e anche anni perché alcuni sono degli anni precedenti per chi volesse approfondire la campagna d'Italia la linea gotica invito a recuperare il libro di Andrea sulla linea gotica ma anche centrici in guerra ma anche tutti gli altri sul nord Africa e vabbè anche l'ultimo libro di Giovanni sui gerarchi fascisti quindi voi poi rimanete un attimo che ci salutiamo in backstage io ringrazio Giovanni Cicini e Andrea Sant'Angelo per aver retto fino alle undici e mezzo questo caldo che nemmeno sulla linea del maretto grazie a chi ci ha seguito numerosi fino a quest'ora e alla prossima città le Military Archives grazie a tutti